Primo libro di Samuele, capitolo primo Vera un uomo di Ramatian Sorfin, nella contrada montuosa di Efraim, che si chiamava Elkana, figliolo di Jeroam, figliolo di Elihu, figliolo di Tohu, figliolo di Zulf, Efraimita. Aveva due mogli, una per nome Anna e l'altra per nome Peninna. Peninna aveva dei figlioli, ma Anna non ne aveva. E quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti ed ad offrirgli dei sacrifici a Scilo. E qui erano i due figlioli di Eli, Ofni e Finea, sacerdoti dell'Eterno. E quando venne il giorno, Elkana offerse il sacrificio e diede a Peninna sua moglie e a tutti i figlioli e a tutte le figliole di lei del loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile. E la rivale mortificava continuamente Anna al fin di nasprirla perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo ondella piangeva e non mangiava più. E Elkana suo marito le diceva, Anna, perché piangi, perché non mangi, perché è triste il cuor tuo, non ti valgo io più di dieci figlioli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Scilo, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio dell'Eterno. Ella aveva l'anima piena d'amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente, e fece un voto dicendo, O Eterno degli eserciti, se hai riguardo dell'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figliuolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa. E come ella prolungava la sua preghiera dinanzi all'Eterno, Eli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo, e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce, onde Eli credette che ella fosse ubriaca, e le disse, Quanto durerà cotesta tua ebrezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispondendo disse, No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia d'annanzi all'Eterno. Non prende la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mia mi ha fatto parlare fino adesso. Ed Eli replicò, Va in pace, e lì Dio d'Israele esaudisca la preghiera che gli è rivolta. Ella rispose, Possa la tua serva trovare grazie agli occhi tuoi? Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo sembiante non fu più quello di prima. L'indomani, ella e suo marito, alzatesi di buon'ora, si prostarono dinanzi all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei. Nel corso dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio uomo, al quale pose nome Samuele, perché, disse, ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo, Alcana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire all'Eterno il sacrificio annuo e sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito, io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimarrà per sempre. Elcana, suo marito, le rispose, fa come ti par bene, rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo. E quando l'ebbe divezzato, lo menò seco e prese tra i giovenchi un'efa di farina e un otre di vino, e lo menò alla casa dell'Eterno a Scilo. Il fanciullo era ancora piccolino. Elcana ed Anna immolarono il giovenco e menarono il fanciullo ad Eli. E Anna gli disse, Signor mio, com'è vero che vive l'anima tua, o mio Signore, io son quella donna che stava qui vicina a te a pregare l'Eterno. Pregai per avere questo fanciullo. E l'Eterno mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. E dal canto mio lo dono all'Eterno. E finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno, e si prostraronquivi dinnanzi all'Eterno. Primo Samuele, capitolo secondo Allora Anna pregò e disse, Il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca s'apre contro i miei nemici, perché gioisco per la liberazione che tu mi hai concessa. Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio fuori di te, né v'è rocca pari all'idio nostro. Non parlate più con tanto orgoglio. Non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché l'Eterno è un Dio che sa tutto, e da Lui son pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, e i deboli son incinti di forza. Quei che erano satolli, s'allogano per aver del pane, e quei che pativano la fame, non la patiscono più. Perfino la sterile partorisce sette volte, mentre quella che aveva molti figli diventa fiacca. L'Eterno fa morire e fa vivere. Fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. L'Eterno fa impoverire ed arricchisce. Egli abbassa e anche innalza. Rileva il misero dalla polvere, e trae su il povero dall'etame, per farli sedere con principi, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono dell'Eterno, e sopra queste Egli ha posato il mondo. Egli veglierà sui passi dei Suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre, poiché l'uomo non trionferà per la Sua forza. Gli avversari dell'Eterno saranno frantumati. Egli tornerà contressi dal cielo. E l'Eterno giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al Suo Re, farà grande la potenza del Suo unto. Elcana se ne andò a casa sua, a Rama, e il fanciullo rimase a servire l'Eterno sotto gli occhi del sacerdote Eli. Or, i figlioli di Eli erano uomini scelerati, non conoscevano l'Eterno, ed ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, nel momento in cui si faceva cuocere la carne, avendo in mano una forchetta a tre punte. La piantava nella caldaio, nel paiolo, nella pentola, nella marmita, e tutto quello che la forchetta tirava su, il sacerdote lo pigliava per sé. Così facevano a tutti gli israeliti che andavano là a Shilo. E anche prima che si fosse fatto fumare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio, dammi della carne da fare rostire per il sacerdote, giacché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda. E se quell'uomo gli diceva, si faccia prima di tutto fumare il grasso, poi prenderai quel che vorrai, e gli rispondeva, no, me la devi dare ora, altrimenti la prendo per forza. Il peccato dunque di quei giovani era grande oltremondo agli occhi dell'Eterno, perché la gente sprezzava le offerte fatte all'Eterno. Ma Samuele faceva il servizio nel cospetto dell'Eterno, era giovinetto e cinto di un efo di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tonaca e gliela portava quando saliva con suo marito ad offrire il sacrificio annuale. Egli benedisse il cana e sua moglie dicendo, l'Eterno ti dia prole da questa donna in luogo del dono che ella ha fatto all'Eterno, e se ne tornarono a casa loro. E l'Eterno visitò Anna, la quale concepì e partorì tre figli e due figliole, e il giovinetto Samuele cresceva presso all'Eterno. Or Eli era molto vecchio, e udì tutto quello che i suoi figlioli facevano a tutto Israele, e come si giacevano con le donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. E disse loro, Perché fate tali cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre malvagie azioni. Non fate così, figlioli mei, poiché quel che odo di voi non è buono. Voi inducete a trasgressione il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, e Dio lo giudica, ma se pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Quelli però non diedero ascolto alla voce del padre loro, perché l'Eterno li voleva far morire. Intanto il giovinetto Samuele continuava a crescere, ed era gradito così all'Eterno come agli uomini. Or un uomo di Dio venne da Eli e gli disse, Così parla l'Eterno, non mi son io forse rivelato alla casa di tuo padre, quando essi erano in Egitto al servizio di Faraone? Non lo scelsi io forse fra tutte le tribù di Israele, perché fosse mio sacerdote, e salisse al mio altare, bruciasse il profumo, e portasse l'efo di mia presenza? E non diedi io forse alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figlioli di Israele, fatti mediante il fuoco? E allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie obbleazioni che ho comandato che siano offerti alla mia dimora? E come mai onori i tuoi figlioli più di me, e vi ingrassate col meglio di tutte le obbleazioni di Israele, mio popolo? Perciò così dice l'Eterno, l'Idio di Israele. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero al mio servizio in perpetuo, ma ora l'Eterno dice, Lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che m'onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti. Ecco, i giorni vengono, quando io troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre in guisa, che non vi sarà in casa tua alcun vecchio, e vedrai lo squallore della mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni, e non vi sarà più mai alcun vecchio nella tua casa. E quello dei tuoi figlioli che lascerò sussistere presso il mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e per illanguidirti il cuore, e tutti i nati cresciuti in casa tua morranno nel fiore degli anni, e ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figlioli, a Ofni e a Fineas ambedue morranno in uno stesso giorno. Io mi susciterò un sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore e secondo l'anima mia, e io gli edificherò una casa stabile, ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre. E chiunque rimarrà della tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un tozzo di pane, e dirà, Ammettimi ti prego a fare alcuno dei servizi del sacerdozio, perché abbia un boccone di pane da mangiare. Primo Samuele, Capitolo Terzo Ora il giovinetto Samuele serviva all'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara in quei tempi, e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidirsi in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno corricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta, e Samuele era corricato nel tempio dell'Eterno, dove si trovava l'arca di Dio. E l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose, Eccomi, e corse da Eli e disse, Eccomi, poiché tu m'hai chiamato. Eli rispose, Io non t'ho chiamato, torna a corricarti. Ed egli se ne andò a corricarsi. E l'Eterno chiamò di nuovo Samuele, e Samuele salzò e andò da Levi e disse, Eccomi, poiché tu m'hai chiamato. E quelli rispose, Figlio al mio, io non t'ho chiamato, torna a corricarti. Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno, e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. L'Eterno chiamò di bel nuovo Samuele per la terza volta, ed egli si alzò e andò da Eli, e disse, Eccomi, poiché tu m'hai chiamato. Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovinetto, ed egli disse a Samuele, Va, coricati, e se sarai chiamato ancora dirai, Parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Samuele andò a coricarsi al suo posto, e l'Eterno venne, e si tenne lì presso, e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele, e Samuele rispose, Parla, poiché il tuo servo ascolta. Allora l'Eterno disse a Samuele, Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale, che chi ludrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò in effetto contro Adeli, dal principio fino alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetuo a cagione dell'iniquità che gli ben conosce, poiché i suoi figli hanno trattato di sé la maledizione, ed egli non li ha repressi. Perciò io giuro alla casa d'Eli che l'iniquità della casa d'Eli non sarà mai spiata né con sacrifici né con oblazioni. Samuele rimase coricato sino alla mattina, poi aprì le porte della casa dell'Eterno, e gli temeva di raccontare ad Eli la visione, ma Eli lo chiamò, e disse, Samuele figliuolo mio, ed egli rispose, Eccomi, ed Eli, Qual è la parola che egli ti ha detta? Ti prego non me la scelare, e Dio ti tratti col massimo rigore se mi nascondi qualche cosa di tutto quello che egli ti ha detto. Samuele allora gli raccontò tutto senza scelarli nulla, ed Eli disse, Egli è l'Eterno, faccia quello che gli farà bene. Samuele intanto cresceva, e l'Eterno era con lui, e non lasciò cadere a terra alcuna delle parole di lui. Tutto Israele, da Dan fino a Bershiba, riconobbe che Samuele era stabilito profeta dell'Eterno. E l'Eterno continuò ad apparire a Scilo, poiché a Scilo l'Eterno si rivelava a Samuele mediante la sua parola, e la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Primo Samuele capitolo quattro Or Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia, e si accampò presso Ebenezer. I Filistei erano accampati presso Afek, e i Filistei si schierarono in battaglia in faccia a Israele, e impegnatosi il combattimento Israele fu sconfitto dai Filistei che uccisero sul campo di battaglia circa quattromila uomini. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani d'Israele dissero, Perché l'Eterno c'ha egli oggi sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a prendere a Scilo l'arca del patto dell'Eterno, e venga essa in mezzo a noi, e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo quindi mandò gente a Scilo, e di là fu portata l'arca del patto dell'Eterno degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e i due figliuoli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. E quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nel campo, tutto Israele die in grandi gridi di gioia, sì che ne rimbombò la terra. I Filistei, all'udire quelle alte gride, dissero, Che significano queste grandi grida nel campo degli ebrei? E seppero che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento, e i Filistei ebbero paura, perché dicevano, Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono, Guai a noi, poiché non era così nei giorni passati, Guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani d'ogni sorta di piaghe nel deserto. Siate forti, Filistei, e comportatevi da uomini, onde non abbiate diventare schiavi degli ebrei, come essi sono stati schiavi vostri. Conduscetevi da uomini, e combattete. I Filistei dunque combatterono, e Israele fu sconfitto, e ciascun se ne fuggì nella sua tenda, e la rotta fu enorme, e caddero di Israele trentamila fanti. L'arca di Dio fu presa, e i due figliuoli d'Eli, Ofni e Fineas, morirono. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, giunse correndo a Scilo, quel medesimo giorno, con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Al suo arrivo, ecco che Eli, stava sull'orlo della strada, seduto sul suo seggio, aspettando ansiosamente, perché egli tremava il cuore per l'arca di Dio. E come quell'uomo entrò nella città portandola nuova, un grido si levò da tutta la città. Ed Eli, udendo lo strepito delle grida, disse, Che significa il chiasso di questo tumulto? E quell'uomo andò in fretta a portarla nuova ad Eli. Or Eli aveva novantott'anni, la vista gli era venuta meno, sicché non poteva vedere. Quell'uomo gli disse, Son io che vengo dal campo di battaglia, e che ne son fuggito oggi. Ed Eli disse, Come è andata la cosa, figliuol mio? E colui che portava la nuova rispondendo, disse, Israele è fuggito dinanzi ai Filistei. E ve' stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figliuoli, Ofni e Finea, sono morti. E l'arca di Dio è stata presa. E come ebbe mentovato l'arca di Dio, Eli cadde dal suo seggio all'indietro, al lato della porta, e si ruppe la nuca, e morì, perché era un uomo vecchio, e assai pesante. Era stato giudice di Israele quarant'anni. La nuora di lui, moglie di Fineas, era incinta, e prossima al parto, quando di la nuova che l'arca di Dio era presa, e che il suo suocero e il suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorpresa, ad un tratto dai dolori. E nel punto che stava per morire, le donne che l'assistevano le dissere, non temere, poiché hai partorito un figliuolo. Ma ella non rispose, e non ne fece caso. E il suo bambino fu posto nome Icabò, dicendo, la gloria ha esulato da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa, e a motivo del suo suocero e del suo marito. E disse, la gloria ha esulato da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa. Primo Samuele, capitolo quinto I filistei, dunque, presero l'arca di Dio, e la trasportarono da Ebenese a Asdod, e presero l'arca di Dio, e la portarono nella casa di Dagon, e la posero a lato, a Dagon. E il giorno dopo, gli asdodei, alzatosi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra, davanti all'arca dell'Eterno. Presero Dagon, e lo rimisero al suo posto. E il giorno dopo, alzatosi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra, davanti all'arca dell'Eterno. La testa e ambedue le mani di Dagon, giacevano mozzate sulla soglia, e non gli restava più che il tronco. Perciò, fino al dì d'oggi, i sacerdoti di Dagon, e tutti quelli che entrano nella casa di Dagon a Asdod, non pongono il piede sulla soglia. Poi, la mano dell'Eterno si aggravò su quei di Asdod, e portò fra loro la desolazione, e li colpì di amorroidi a Asdod e nel suo territorio, e quando quelli di Asdod videro che cosa avveniva, dissero, l'arca dell'Iddio di Israele non rimarrà presso di noi, poiché la mano di lui è dura su di noi e su Dagon, nostro Dio. E mandarono quindi a convocare presso di loro tutti i principi dei Filistei, e dissero, che farende all'arca dell'Iddio di Israele? I principi risposero, si trasporti l'arca dell'Iddio di Israele a Gath, e trasportarono quivi l'arca dell'Iddio di Israele. E come l'ebbero trasportata, la mano dell'Eterno si volse contro la città, e vi fu un'immensa costernazione. L'Eterno colpì gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello di amorroidi scoppiò fra loro. Allora mandarono l'arca di Dio a Ekron, e come l'arca di Dio giunse a Ekron, quei di Ekron cominciarono a gridare dicendo, hanno trasportato l'arca dell'Iddio di Israele da noi, per far morire noi e il nostro popolo. Mandarono quindi a convocare tutti i principi dei filistei, e dissero, rimandate l'arca dell'Iddio di Israele, torni essa al suo popolo, e non faccia morire noi e il nostro popolo, poiché tutta la città era in preda a un terrore di morte, e la mano di Dio si aggravava gravemente su di essa. Quelli che non morivano erano colpiti di amorroidi, e la grida della città salivano fino al cielo. Primo Samuele, capitolo sesto L'arca dell'Eterno rimase nel paese dei filistei sette mesi. Poi i filistei chiamarono i sacerdoti e gli indovini, e dissero, Che faremo dell'arca dell'Eterno? Insegnateci il modo di rimandarla al suo luogo, e quelli risposero, Se rimandate l'arca dell'Iddio di Israele, non la rimandate senza nulla, ma fateli ad ogni modo un'offerta di riparazione, allora guarirete, e così saprete perché la sua mano non abbia cessato da gravarsi su voi. Ed essi chiesero, Quale offerta di riparazione gli offriamo noi? Quelli risposero, Cinque morroidi d'oro e cinque topi d'oro, secondo il numero dei principi dei filistei, giacché una stessa piaga ha colpito voi e i vostri principi. Fate dunque delle figure delle vostre morroidi, delle figure dei topi che vi devastavano il paese, e date gloria all'Iddio di Israele. Forse egli cesserà da gravare la sua mano su voi, sui vostri dèi e sul vostro paese. E perché indurereste il cuor vostro, come gli egiziani e faraoni indurarono il cuor loro? Dopo che egli abbia spiegato contro di essi la sua potenza, gli egiziani non lasciarono essi partire gli israeli, sì che questi poterono andarsene. Ordunque fatevi un carro nuovo, e prendete due vacche che allattino, e che non abbia mai portato gioco, attaccatele al carro, le vacche, e riconduscete nella stalla i loro vitelli. Poi prendete l'arca dell'Eterno e mettetela sul carro, e accanto ad essa ponete in una cassetta i lavori d'oro che presentate all'Eterno come offerta di riparazione, e lasciatela sì che se ne vada. E state a vedere. Se sale per la via che mena al suo paese verso Bed Shemesh, vuol dire che l'Eterno è quelli che ci ha fatto questo gran male, se no sapremo che non è la sua mano che ci ha percossi, ma che questo ci è avvenuto per caso. Quelli dunque fecero così, presero due vacche che allattavano, le attaccarono al carro, e chiusero nella stalla i vitelli. Poi misero sul carro l'arca dell'Eterno e la cassetta coi topi d'oro e le figure delle morroidi. Le vacche presero direttamente la via che mena a Bed Shemesh, seguirono sempre la medesima strada, mugendo mentre andavano, e non piegarono né a destra né a sinistra. I principi dei Filistei tennero loro dietro sino ai confini di Bed Shemesh. Ora quei di Bed Shemesh mietevano il grano nella valle, e alzando gli occhi, videro l'arca e si rallegravano vedendola. E il carro giunto al campo di Gesùè di Bed Shemesh vi si fermò. C'era qui vi una gran pietra. Essi spaccarono il legname del carro e offrirono le vacche in olocausto all'Eterno. I leviti deposero l'arca dell'Eterno e la cassetta che le stava accanto e conteneva gli oggetti d'oro e misero ogni cosa sulla gran pietra e in quello stesso giorno quei di Bed Shemesh offrirono olocausti e presentarono sacrifici all'Eterno. I cinque principi dei Filistei, veduto sciò, tornarono il medesimo giorno a Ekron. Questo è il numero delle moroidi d'oro che i Filistei presentarono all'Eterno come offerta di riparazione. Una per Asdod, una per Gaza, una per Ascalon, una per Gath, una per Ekron. Ed i topi d'oro ne offrirono tanti quante erano le città dei Filistei appartenenti ai cinque principi delle città murate ai villaggi di campagna che si estendono fino alla gran pietra sulla quale fu posata l'arca dell'Eterno e che sussiste anche al di d'oggi nel campo di Giosuè, il Beth Shemita. L'Eterno colpì quei di Bed Shemesh perché avevano portato gli sguardi sull'arca dell'Eterno. Colpì settanta uomini del popolo. Il popolo fece cordoglio perché l'Eterno aveva colpito d'una gran piaga. e quelli di Bed Shemesh dissero «Chi può sussistere in presenza dell'Eterno di questo Dio santo? E da chi salirà l'arca partendo da noi?» e spedirono dei messi agli abitanti di Kiria di Arim per dir loro «I Filistei hanno ricondotto l'arca dell'Eterno. Scendete e menatela su fra voi». Primo Samuele Capitolo Settimo Quei di Kiria di Arim vennero, menarono su l'arca dell'Eterno e la trasportarono in casa di Abinadab sulla collina e consacrarono il suo figliolo Eleazar perché custodisse l'arca dell'Eterno. Ora, dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiria di Arim era passato molto tempo vent'anni erano trascorsi e tutta la casa di Israele sospirava anelando all'Eterno. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo «Se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte volgete risolutamente il cuor vostro verso l'Eterno e se viti a lui solo ed egli vi libererà dalle mani dei filistei». E i figlioli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono all'Eterno soltanto. Poi Samuele disse «Radunate tutto Israele a Mizpah ed io pregherò l'Eterno per voi». Ed essi si adunarono a Mizpah attinsero dell'acqua e la sparsero davanti all'Eterno e digiunarono quivi quel giorno e dissero «Abbiamo peccato contro l'Eterno». E Samuele fece la funzione di giudice di Israele a Mizpah. Quando i filistei seppero che i figlioli di Israele si erano radunati a Mizpah, i principi loro salirono contro Israele. La qualcosa, avendo udito i figlioli di Israele, ebbero paura dei filistei e dissero a Samuele «Non cessare di gridare per noi all'Eterno all'Idio nostro affinché ci liberi dalle mani dei filistei». E Samuele prese un agnello di latte e lo verse intero in olocausto all'Eterno e gridò all'Eterno per Israele e l'Eterno l'esaudì. Ora, mentre Samuele offriva l'olocausto, i filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma l'Eterno tuonò quel giorno con gran fracasso contro i filistei li mise in rotta dal che furono sconfitti dinanzi a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mizpah inseguirono i filistei e li batterono fin sotto Beth-kar. Allora Samuele prese una pietra e la pose fra Mizpah e Shem e la chiamò Eben-Ezer dicendo «Fino a qui l'Eterno ci ha soccorsi». I filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele e la mano dell'Eterno fu contro i filistei per tutto il tempo di Samuele. Le città che i filistei avevano preso ad Israele tornarono ad Israele da Ekron fino a Gath. Israele liberò il loro territorio dalle mani dei filistei e vi fu pace fra Israele e gli amorei. E Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Egli andava ogni anno a fare il giro di Beto, di Gilgal, di Mizpah ed esercitava il suo ufficio di giudice di Israele in tutti quei luoghi. Poi tornava a Rama dove stava di casa. Quivi fungeva da giudice di Israele e Quivi edificò un altare all'Eterno. Primo Samuele capitolo ottavo Or quando Samuele fu diventato vecchio costituì i giudici di Israele i suoi figlioli. Il suo figliolo primogenito si chiamava Yoahel, il secondo Abia e facevano le funzioni di giudici a Beershiba. I suoi figlioli però non seguivano le sue orme ma si lasciavano sviare dalla cupidigia accettavano i regali e pervertivano la giustizia. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e vennero da Samuele a Rama e gli dissero Ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figlioli non seguono le tue orme or dunque stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia come l'hanno tutte le nazioni. A Samuele dispiacque questo l'ordire dacci un re che amministri la giustizia fra noi e Samuele pregò l'Eterno e l'Eterno disse a Samuele dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà poiché essi hanno rigettato non te ma me poiché io non regni su di loro agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto a oggi ma hanno abbandonato per servire altri dei or dunque dà ascolto alla loro voce abbi cura però di avvertirli solennemente e di far loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro e Samuele referì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re e disse questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi egli prenderà i vostri figlioli e li metterà sui suoi carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro se ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine e li metterà ad arare i suoi campi a mettere le sue biade a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri prenderà le vostre figliuole per farsene delle profumiere delle cuoche delle fornaie prenderà i vostri campi le vostre vigne e i vostri migliori uliveti per darli ai suoi servitori prenderà la decima della vostra semente e delle vostre vigne per darla ai suoi enucchi e ai suoi servitori prenderà i vostri servi le vostre serve il fiore della vostra gioventù i vostri asini per adoprarli nei suoi lavori prenderà le decime le vostri gregi e voi sarete suoi schiavi e allora griderete per cagione del re che vi avrete scelto ma in quel giorno l'Eterno non vi risponderà il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse no ci sarà un re su di noi e anche noi saremo come tutte le nazioni il nostro re amministrerà la giustizia fra noi marcerà la nostra testa e condurrà le nostre guerre Samuele udite le parole del popolo le riferì all'Eterno e l'Eterno disse a Samuele dà ascolto alla loro voce e stabilisci su di loro un re e Samuele disse agli uomini di Israele ognuno se ne torni alla sua città primo Samuele capitolo nono or vera un uomo di Beniamino per nome Chis figliolo di Abiel figliolo di Zeror figliolo di Bekorat figliolo di Afiak figliolo di un Beniaminita era un uomo forte e valoroso e aveva un figliolo per nome Saul giovane e bello non venera tra i figlioli di Israele uno più bello di lui era più alto di tutta la gente dalle spalle in su or le asine di Chis padre di Saul s'erano smarrite e Chis disse a Saul suo figliolo prendi teco uno dei servi levati e va in cerca delle asine egli passò per la contrada montuosa di Efraim attraversò il paese di Shalisha senza trovarle poi passarono per il paese di Shalim ma non vi erano attraversarono il paese dei Beniaminiti ma non le trovarono quando furono giunti nel paese di Zuf Saul disse al servo che era con lui vieni torniamocene che altrimenti mio padre cesserebbe dal pensare alle asine sarebbe in pensiero per noi il servo gli disse ecco v'è in questa città un uomo di Dio che è tenuto in grande onore e tutto quello che gli dice succede sicuramente andiamoci forse egli ci indicherà la via che dobbiamo seguire e Saul disse al suo servo ma ecco se vandiamo che porteremo noi all'uomo di Dio poiché non ci sono più provisioni nei nostri sacchi e non abbiamo alcun presente da offrire all'uomo di Dio chi abbiamo con noi il servo replicò a Saul dicendo ecco io mi trovo in possesso di un quarto di un ciclo d'argento e lo darò all'uomo di Dio e gli ci indicherà la via anticamente in Israele quando uno andava a consultare Dio diceva vieni andiamo al veggente poiché colui che oggi si chiama profeta anticamente si chiamava veggente e Saul disse al suo servo va bene vieni andiamo e andarono alla città dove stava l'uomo di Dio e mentre facevano la salita che mena la città trovarono delle fanciulle che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro è qui il veggente e quelle risposero loro dicendo sì c'è là dove sei diretto ma va presto già che è venuto oggi in città perché oggi il popolo fa un sacrificio sull'alto luogo quando sarete entrati in città lo troverete di certo prima che gli salga all'alto luogo a mangiare il popolo non mangerà prima che gli sia giunto perché è lui che deve benedire il sacrificio dopo di lui i convivati mangeranno or dunque salite perché è proprio ora che lo troverete ed essi salirono alla città e come vi furono entrati ecco Samuele che usciva loro incontro per salire all'alto luogo ora un giorno prima dell'arrivo di Saul l'Eterno aveva avvertito Samuele dicendo domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lungerai come capo del mio popolo di Israele egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei poiché io ho rivolto lo sguardo verso il mio popolo perché il suo grito è giunto fino a me e quando Samuele vide Saul l'Eterno gli disse ecco l'uomo di cui ti ho parlato egli è colui che signoreggerà sul mio popolo Saul si avvicinò a Samuele entro la porta della città e gli disse indicami ti prego dove sia la casa del veggente e Samuele rispose a Saul sono io il veggente sali davanti a me all'altro luogo e mangerete oggi con me poi domattina ti lascerò a partire e ti dirò quello che hai nel cuore e quanto alle asine smarrite tre giorni fa non dartene pensiero perché son trovate e perché tutto quello che vi è di desiderabile in Israele non è esso per te e per tutta la casa di tuo padre Saul rispondendo disse non sono io un beniaminita di una delle più piccole tribù di Israele la mia famiglia non è essa la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino perché dunque mi parli a questo modo Samuere prese Saul e il suo servo e li introdusse nella sala e li fe sedere al capo di tavola fra i convitati che erano circa trenta persone e Samuere disse al cuoco porta qua la porzione che ti ho data e della quale ti ho detto tienla in servo presso di te il cuoco allora prese la coscia e ciò che va deriva e la mise davanti a Saul e Samuere disse ecco ciò che è stato tenuto in servo mettitelo davanti e mangia poiché è stato serbato apposta per te quando io ho invitato il popolo così Saul quel giorno mangiò con Samuele poi scesero dall'alto luogo in città e Samuele si intrattenne con Saul sul terrazzo l'indomani si alzarono presto allo spuntare dell'alba Samuele chiamò Saul sul terrazzo e gli disse vieni che io ti lasci partire Saul salzò e uscirono fuori ambedue egli e Samuele e quando furono discesi all'estremità della città Samuele disse a Saul di al tuo servo che passi e vada innanzi a noi e il servo passò ma tu adesso fermati ed io ti farò dire la parola di Dio primo Samuele capitolo decimo allora Samuele prese un vasetto d'olio lo versò sul capo di lui basciò Saul e disse l'Eterno non ta egli unto perché tu sia il capo della sua eredità oggi quando tu sarai partito da me troverai due uomini presso al sepolcro di Rachele ai confini di Beniamino e Zertscia i quali ti diranno le asine delle quali che andavi in cerca sono trovate ed ecco tuo padre non è più in pensiero per le asine ma è in pena per voi e va dicendo che farò io riguardo al mio figliolo e quando sarai passato più innanzi e sarai giunto alla quercia di Davor ti incontrerai con tre uomini che salgono adorare lì Dio a Bethel portando l'uno tre capretti l'altro tre pani e il terzo un otre di vino ed essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano poi arriverai a Ghibea e la Ohim dove c'è la guarnigione dei filistei e avverrà che entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'altro luogo preceduti dai salteri dai timpani dai flauti da scetre che profeteranno e lo spirito dell'eterno ti investirà e tu profeterai con loro e sarai mutato in un altro uomo e quando questi segni si saranno avvenuti fa quello che avrà l'occasione di fare poiché Dio è teco poi scenderai prima di me a Gilgal ed ecco io scenderò verso te per offrire olocausti e sacrifici di azioni di grazie tu aspetterai sette giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare e non appena egli ebbe voltate le spalle per partirsene da Samuele e Dio li mutò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno e come giunsero a Ghibea ecco che una schiera di profeti si fece incontro a Saul allora lo spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetare mezzo a loro e tutti quelli che l'avevano conosciuto prima e lo videro che profetava coi profeti e dicevano l'un l'altro che è mai avvenuto al figliolo di Chis Saul e anche egli fra i profeti e un uomo del luogo rispose dicendo e chi è il loro padre di qui venne il proverbio Saul e anche egli tre profeti e come Saul ebbe finito di profetare si recò all'alto luogo e lo zio di Saul disse a lui e al suo servo dove siete andati Saul rispose a cercare le asine ma vedendo che non potevamo trovarle siamo andati da Samuele e lo zio di Saul disse raccontami ti prego quello che va detto Samuele e Saul a suo zio egli ci ha dichiarato positivamente che le asine erano trovate ma di quel che Samuele aveva detto riguardo al regno non gli riferì nulla poi Samuele convocò il popolo dinanzi all'eterno a Mizpah e disse ai figlioli di Israele così dice l'eterno lì Dio di Israele io trassi Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani e dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano ma oggi voi rigettate lì Dio vostro che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni e gli dite e stabilisce su di noi un re or dunque presentatevi nel cospetto dell'eterno per tribù e per migliaia poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte fece quindi accostare la tribù di Beniamino per famiglia e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte poi fu designato Saul figliolo di Chis lo cercarono ma non fu trovato allora consultarono di nuovo l'eterno quell'uomo e egli è venuto qua l'eterno rispose guardate e si è nascosto fra i bagagli e corsero a trarlo di là e quando egli si presentò in mezzo al popolo che era più alto di tutta la gente dalle spalle in su e Samuele disse a tutto il popolo vedete colui che l'eterno si è scelto non ve' alcuno in tutto il popolo che sia pari di lui e tutto il popolo dia in esclamazioni di gioia gridando viva il re allora Samuele espose al popolo la legge del regno e la scrisse in un libro che depose nel cospetto dell'eterno poi Samuele rimandò a tutto il popolo ciascuno a casa sua Saul se ne andò anche egli a casa sua a Ghibea e con lui andarono gli uomini valorosi a cui Dio aveva toccato il cuore non di meno ci furono degli uomini da nulla che dissero come ci salverebbe costui e lo disprezzarono e non gli portarono alcun dono ma egli fece vista di non udire primo Samuele capitolo undicesimo or Nahash la monita salì e si accampò contro Iabes di Galahad e tutti quelli di Iabes dissero a Nahash fa alleanza con noi e noi ti serviremo e Nahash la monita rispose loro io farò alleanza con voi a questa condizione che io vi cavi a tutti l'occhio destro e getti così questo proprio su tutto Israele gli anziani di Iabes gli dissero concedici sette giorni di tregua perché inviamo dei messi a tutto il territorio di Israele e se non vi sarà chi ci soccorra ci arrenderemo a te i messi vennero dunque a Ghibea di Saul e riferirono queste parole in presenza del popolo e tutto il popolo al solla voce pianse ed ecco Saul tornava dai campi seguendo i bovi e disse che ha egli il popolo che piange e gli riferirono le parole di quelli di Iabes e come egli ebbe udite quelle parole lo spirito di Dio investì Saul che si infiammò d'ira e presi un paio di buoi li tagliò a pezzi che mandò per mano di messi per tutto il territorio di Israele dicendo così saranno trattati i buoi di chi non seguirà Saul e Samuele il terrore dell'eterno si impadronì del popolo e partirono come se fossero stati un uomo solo Saul li passò in rassegna a Besec ed erano trecentomila figliuoli di Israele e trentamila uomini di Giuda e dissero a quei messi che erano venuti dite così a quei di Iabes di Galad domani quando il sole sarà in tutto il suo calore sarete liberati e i messi andarono a riferire queste parole a quei di Iabes i quali si rallegrarono e quei di Iabes dissero gli ammoniti domani verremo da voi e farete di noi tutto quello che vi parrà il giorno seguente Saul divise il popolo in tre schiere che penetrarono nel campo degli ammoniti sulla veglia del mattino e li batterono fino alle ore calde del giorno quelli che scamparono furono dispersi in guisa che non ne rimasero due assieme il popolo disse a Samuele chi è che diceva Saul regnerà egli su noi dateci quegli uomini e li metteremo a morte ma Saul rispose nessuno sarà messo a morte in questo giorno perché oggi l'Eterno ha operato una liberazione in Israele e Samuele disse al popolo venite andiamo a Gilgal ed Ivi confermiamo l'autorità reale e tutto il popolo andò a Gilgal e quivi a Gilgal fecero Saul re davanti all'Eterno e quivi offrirono nel cospetto dell'Eterno sacrifici di azione di grazie e Saul e gli uomini tutti di Israele fecero gran festa in quel luogo primo Samuele capitolo dodici allora Samuele disse a tutto Israele ecco io vi ho obbedito in tutto quello che m'avete detto ed ho costituito un re su di voi ed ora ecco il re che andrà dinanzi a voi quanto a me io sono vecchio e canuto e i miei figlioli sono tra voi io sono andato dinanzi a voi dalla mia giovinezza fino a questo giorno eccomi qui rendete la vostra testimonianza a mio carico in presenza dell'Eterno e in presenza del suo unto a chi ho preso il bue a chi ho preso l'asino chi ho deofradato a chi ho fatto violenza dalle mani di chi ho accettato doni per chiudere gli occhi al suo riguardo io vi ristituirò ogni cosa e quelli risposero tu non ci hai deofradati non ci hai fatto violenza e non hai preso nulla dalle mani di chi che sia ed egli a loro oggi l'Eterno è testimonio contro di voi e il suo unto pure testimone che voi non avete trovato nulla nelle mie mani e il popolo rispose egli è testimone allora Samuele disse al popolo testimone l'Eterno che costituì Mosè ed Aronne e fe salire i padri vostri dal paese d'Egitto oldunque presentatevi un Dio dinanzi all'Eterno dibatta con voi la causa relativa a tutte le opere di giustizia che l'Eterno ha compiute a beneficio vostro e dei vostri padri dopo che Giacobbe fu entrato in Egitto i vostri padri gridarono all'Eterno e l'Eterno mandò Mosè ed Aronne i quali trassero i vostri padri fuori dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo ma essi dimenticarono l'Eterno il loro Dio ed egli li diede in potere di Sisera capo dell'esercito di Azzor e in potere dei Filistei e del re di Moab i quali mossero loro guerra allora gridarono all'Eterno e dissero abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato l'Eterno e abbiamo servito agli idoli di Baal e d'Astarte ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te e l'Eterno mandò Gerubba a Beden e Gefte a Samuele e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e viveste al sicuro ma quando udiste che Nahasa re di figliuoli di Amon marciava contro di voi mi diceste no deve regnare su di noi un re mentre l'Eterno il vostro Dio era il vostro re ordunque ecco il re che vi siete scelto e che avete chiesto ecco l'Eterno ha costituito un re su di voi se temete l'Eterno lo servite e ubbidite alla sua voce se non siete ribelli al comando dell'Eterno e tanto voi quanto il re che regna su voi siete seguaci dell'Eterno che è il vostro Dio bene ma se non ubbidite alla voce dell'Eterno se vi ribellate al comandamento dell'Eterno la mano dell'Eterno sarà contro di voi come fu contro i vostri padri ed anche ora fermatevi e mirate a questa grande cosa che l'Eterno sta per compiere dinnanzi agli occhi vostri non siamo al tempo della messa del grano io invocherò l'Eterno ed egli manderà tuoni e pioggia finché sappiate e veggiate quanto è grande agli occhi dell'Eterno il male che avete fatto chiedendo per voi un re allora Samuele invocò l'Eterno e l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia e tutto il popolo ebbe gran timore dell'Eterno e di Samuele e tutto il popolo disse a Samuele prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi affinché non muoiano perché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto questo torto di chiedere per noi un re e Samuele rispose al popolo non temete è vero voi avete fatto tutto questo male non di meno non vi ritraete dal seguir l'Eterno ma servitelo con tutto il cuor vostro non ve ne ritraete perché andreste dietro a cose vane che non possano giovare né liberare perché sono cose vane poiché l'Eterno per amore del suo gran nome non abbandonerà il suo popolo giacché è piaciuto all'Eterno di far di voi il popolo suo e quanto a me lungi da me il peccare contro l'Eterno cessando di pregare per voi anzi io vi mostrerò la buona e diritta via solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il cuor vostro poiché mirate le cose grandi che egli ha fatte per voi ma se continuate ad agire malveggialmente perirete voi e il vostro re primo samuele capitolo tredicesimo saul aveva trent'anni quando cominciò a regnare e regnò quarantadue anni sopra israele saul si scelse tremila uomini d'israele duemila stavano con lui a mikmas e sul monte di beto e mille con jonathan a ghibea di beniamino e rimandò il resto del popolo ognuno alla sua tenda jonathan batté la guarnigione dei filistei che stava a gheba e i filistei lo seppero e saul fessonare la tromba per tutto il paese dicendo lo sappiano gli ebrei e tutto israele sentì dire saul ha battuto la guarnigione dei filistei e israele è venuto in odio ai filistei così il popolo fu convocato a gilgal per seguire saul e i filistei si radunarono per combattere contro israele avevano trentamila carri semila cavalieri e gente numerosa come l'arena che è sul lido del mare saliron dunque si accamparono a mikmas a oriente di bethaven gli israeliti vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette si nascossero nelle caverne nelle macchie tra le rocce nelle buche e nelle cisterne ci furono degli ebrei che passarono il giordano per andare nel paese di gad e di galahad quanto a sau egli era ancora gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava egli aspettò sette giorni secondo il termine fissato da samuele ma samuele non giuggeva a gilgal e il popolo cominciò a disperarsi ed abbandonarlo allora saul disse menatemi l'olocausto e i sacrifici di azioni di grazia e offerse l'olocausto e come finiva di offrire l'olocausto ecco che arrivò samuele e saul gli uscì incontro per salutarlo ma samuele gli disse che hai tu fatto saul rispose siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava e che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano adunati a mikmas mi son detto or i filistei mi piomberanno addosso a gilgal e io non ho ancora implorato l'eterno così mi son fatto violenza ed ho offerto l'olocausto allora samuele disse a saul tu hai agito stoltamente non hai osservato il comandamento che l'eterno il tuo dio ti aveva dato l'eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra israele in perpetuo ma ora il tuo regno non durerà l'eterno si è cercato un uomo secondo il cuor suo e l'eterno l'ha destinato ad essere principe del suo popolo giacché tu non hai osservato quel che l'eterno t'aveva ordinato poi samuele si levò e salì a gilgal e a ghibea di beniamino e saul fece la rassegna del popolo che si trovava con lui erano circa seicento uomini or saul jonathan suo figliuolo e la gente che si trovava con essi occupavano ghibea di beniamino mentre i filistei erano accampati a mikmas dal campo dei filistei uscirono dei guastatori divisi in tre schiere una prese la via d'ofra verso il paese di shual l'altra prese la via di bet oron e la terza prese la via della frontiera che guarda la valle di zeboim verso il deserto or tutto il paese di israele non si trovava un fabbro poiché i filistei avevano detto vediamo che gli ebrei non facciano spade o lance e tutti gli israeliti scendevano dai filistei per farsi aguzzare chi il suo vomero chi la sua zappa chi la sua scure chi la sua vanga e il prezzo della rottatura era di un pin per le vanghe per le zappe e per i tridenti per le scuri e per aggiustare i pungoli così avvenne che il dì della battaglia non si trovava in mano tutta la gente che era con Saul e con Jonathan né spada né lancia non se ne trovava che in mano di Saul e di Jonathan suo figliuolo e la guarnigione dei filistei uscì ad occupare il passo di Mikmas primo Samuele capitolo quattordicesimo ora avvenne che un giorno Jonathan figliuolo di Saul disse a un giovane suo scudiero vieni andiamo verso la guarnigione dei filistei che è là dall'altra parte ma non ne disse nulla suo padre Saulo stava allora all'estremità di Gibbea sotto il melagrano di Migron e la gente che aveva seco noverava circa seicento uomini Aia figliuolo di Aitub fratello di Iocabod figliuolo di Fineas figliuolo di Eli sacerdote dell'Eterno Ascilo portava l'Ephod il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato o fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava ad arrivare alla guarnigione dei filistei c'era una punte di rupe da una parte e una punte di rupe dall'altra parte una si chiamava Botsets e l'altra Sene una di queste punte sorgeva al nord di rimpetto a Mikmas e l'altra a mezzogiorno di rimpetto a Ghibea Jonathan disse al suo giovane scudiero vieni andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi forse l'Eterno agirà per noi poiché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molta o con poca gente e il suo scudiero gli rispose fa tutto quello che ti sta nel cuore va pure ecco io son teco dove il cuore ti mena allora Jonathan disse ecco noi andremo verso quella gente e ci mostreremo a loro se ci dicono fermatevi finché venian da voi ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro ma se ci dicono venite su da noi saliremo perché l'Eterno li avrà dati nelle nostre mani questo ci servirà di segno così si mostrarono ambedue alla guarnigione del filistei e i filistei dissero ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti e gli uomini della guarnigione rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero dissero venite su da noi e vi faremo sapere qualcosa Jonathan disse al suo scudiero sali dietro a me poiché l'Eterno li ha dati nelle mani di Israele Jonathan salì arrampicandosi con le mani e coi piedi seguito dal suo scudiero e i filistei caddero dinanzi a Jonathan e lo scudiero dietro a lui che dava loro la morte in quella prima disfatta inflitta da Jonathan e dal suo scudiero caddero circa venti uomini sullo spazio di circa la metà di un iughero di terra e lo spavento si sparse nell'accampamento nella campagna e fra tutto il popolo e la guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati e il paese tremò fu uno spavento di Dio le sentinelle di Saul a Ghibea di Beniamino guardarono ed ecco che la moltitudine si sbandava e fuggiva di qua e di là allora Saul disse alla gente che era con lui fate la rassegna e vedete chi se ne è andato da noi e fatta la rassegna ecco che mancavano Jonathan e il suo scudiero e Saul disse ad Aia fa accostare l'arca di Dio poiché l'arca di Dio era allora coi figlioli di Israele e mentre Saul parlava col sacerdote il tumulto andava aumentando nel campo dei filistei e Saul disse al sacerdote ritira la mano poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono e s'avanzarono fino al luogo della battaglia ed ecco che la spada dell'uomo era rivolta contro l'altro e la confusione era grandissima or gli ebrei che già prima si trovavano con i filistei ed erano saliti con essi al campo del paese e d'intorno fecero volta faccia e si unirono anch'essi con gli israeliti che erano con Saul e con Jonathan e parimenti tutti gli israeliti che si erano nascosti nella contrada montuosa di Efraim quando udirono che i filistei fuggivano si misero anch'essi ad inseguirli da presso combattendo e in quel giorno l'Eterno salvò Israele e la battaglia si estese fino a Bethaven or gli uomini di Israele in quel giorno erano sfiniti ma Saul fece fare al popolo questo giuramento maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera prima che io mi sia vendicato dei miei nemici e nessuno del popolo tocco cibo or tutto il popolo giunse a una foresta dove c'era del miele per terra e come il popolo fu entrato nella foresta vide il miele che colava ma nessuno si portò la mano e la bocca perché il popolo rispettava il giuramento ma Jonathan non aveva sentito quando suo padre aveva fatto giurare il popolo e stesse la punta del bastone che teneva in mano la intinse nel miele che colava e portò la mano alla bocca e gli si rischiarò la vista uno del popolo rivolgendosi a lui gli disse tuo padre ha espressamente fatto fare al popolo questo giuramento maledetto l'uomo che toccherà oggi cibo e il popolo è esausto allora Jonathan disse mio padre ha recato un danno al paese vedete come l'aver guastato un po' di questo miele ma rischiarato la vista ah se il popolo avesse oggi mangiato a sua voglia nel bottino che ha trovato presso i nemici non si sarebbe egli fatto una più grande strage dei filistei essi dunque sconfissero quel giorno i filistei da mikmas ad ajalon il popolo era estenuato e si gettò sul bottino prese pecore buoi e vitelli li scannò sul suolo e li mangiò col sangue e questo fu riferito a Saul e gli fu detto ecco il popolo pecca contro l'eterno mangiando carne col sangue ed egli disse voi avete commesso un'infedeltà rotolate subito qua presso di me una gran pietra e Saul soggiunse andate intorno fra il popolo e dite a ognuno di menarmi qua il suo bue e la sua pecora e di scannarli qui poi mangiate e non peccate contro l'eterno mangiando carne col sangue e quella notte ognuno del popolo menò di propria mano il suo bue e lo scannò qui e Saul edificò un altare all'eterno questo fu il primo altare che egli edificò all'eterno poi Saul disse scendiamo nella notte ad inseguire i filistei saccheggiamoli fino alla mattina e facciamo che non ne scampi uno il popolo rispose fa tutto quello che ti par bene e allora disse il sacerdote accostiamoci qui a Dio e Saul consultò e Dio dicendo debbo io scendere a inseguire i filistei li darai tu nelle mani di Israele ma questa volta Dio non gli diede alcuna risposta e Saul disse accostatevi qua voi tutti i capi del popolo riconoscete e vedete in che consiste il peccato commesso quest'oggi poiché com'è vero che l'eterno il salvatore di Israele vive quando anche il reo fosse Gionata mio figliuolo egli dovrà morire ma in tutto il popolo non ci fu alcuno che gli rispondesse allora egli disse a tutto Israele mettetevi da un lato e Dio e Gionata mio figliuolo staremo dall'altro e il popolo disse a Saul fa quello che ti par bene Saul disse all'eterno Dio di Israele fa conoscere la verità e Gionata e Saul furono designati dalla sorte e il popolo scampò poi Saul disse tirate a sorte fra me e Gionata mio figliuolo e Gionata fu designato allora Saul disse a Gionata dimmi quello che hai fatto e Gionata glielo confessò e disse sì io assaggiai un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano eccomi qui morrò Saul disse mi tratti Dio con tutto il suo rigore se non andrai alla morte o Gionata e il popolo disse a Saul Gionata che ha operato questa gran liberazione in Israele dovrebbe egli morire non sarà mai com'è vero che l'Eterno vive non cadrà in terra un capello del suo capo poiché oggi egli ha operato con Dio così il popolo salvò Gionata che non fu messo a morte poi Saul tornò dall'inseguimento dei Filistei e i Filistei se ne tornarono al loro paese or Saul quando ebbe preso possesso del suo regno in Israele mosse guerra a tutti i suoi nemici d'ogni intorno a Moab ai figlioli di Ammon a Edom ai re di Soba ai Filistei e dovunque si volgeva vinceva spiegò il suo valore sconfisse gli amalecchiti e liberò Israele dalle mani di quelli che lo predavano i figlioli di Saul erano Jonathan Ishvi e Malchiusha e delle sue due figliole la primogenita si chiamava Merab e la minore Michal il nome della moglie di Saul era Ainoam figliolo di Amaz il nome del capitano del suo esercito era Abner figliolo di Ner zio di Saul e Kis padre di Saul e Ner padre di Abner erano i figlioli di Abiel per tutto il tempo di Saul vi fu guerra canita contro i Filistei e come Saul scorgeva un uomo forte e valoroso lo prendeva seco primo Samuele capitolo quindicesimo or Samuele disse a Saul l'Eterno mi ha mandato per ungerti il re del suo popolo di Israele ascolta dunque quel che ti dice l'Eterno così parla l'Eterno degli eserciti io ricordo ciò che Amalek fece ad Israele quando gli soppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto or va sconfigge Amalek vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene non lo risparmiare ma uccidi uomini e donne fanciulle lattanti buoi e pecore cammelli ed asini Saul dunque convocò il popolo e ne fece la rassegna a Telaim erano duecentomila fanti e diecimila uomini di Giuda Saul giunse alla città di Amalek pose un'imboscata nella valle e disse ai canei andatevene ritiratevi scendete di mezzo agli Amalekiti perché io non vi distrugga insieme a loro giacché usaste benignità verso tutti i figlioli di Israele quando salirono dall'Egitto così i canei si ritirarono di mezzo agli Amalekiti e Saul sconfisse gli Amalekiti da Avila fino a Shur che sta di rimpetto all'Egitto e prese vivo Agag re degli Amalekiti e votò allo sterminio tutto il popolo passandolo a fin di spada ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore e dei buoi e degli animali della seconda figliatura degli agnelli e tutto quel che era di buono e non volero darle lo sterminio ma votarono allo sterminio tutto ciò che non aveva valore ed era meschino allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo io mi pento d'aver stabilito re Saul perché si è sviato da me e non ha eseguito i miei ordini Samuele ne fu irritato e gridò all'Eterno tutta la notte poi si levò la mattina di buon'ora e andò incontro a Saul e vennero a dire a Samuele Saul è andato a Carmel ed ecco che vi si è retto un trofeo poi se ne è ritornato e passando più lungi è sceso a Gilgal Samuele si recò da Saul e Saul gli disse benedetto si tu dall'Eterno io ho seguito l'ordine dell'Eterno e Samuele disse chi è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo mugir di buoi che io sento Saul rispose sono bestie menate dal paese degli Amalekiti perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno al tuo Dio il resto però l'abbiamo votato allo sterminio allora Samuel disse a Saul basta io ti annunzierò quel che l'Eterno mi ha detto stanotte e Saul gli disse parla e Samuel disse non è egli vero che quando ti reputavi piccolo sei divenuto capo delle tribù di Israele e l'Eterno ti ha unto re di Israele l'Eterno ti aveva dato una missione dicendo va vota allo sterminio quei peccatori da Amalekiti e fa loro guerra finché siano sterminati e perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno e Saul disse a Samuele ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno ho compiuto la missione che l'Eterno mi aveva affidata ho menato Agag re di Amalek e ho votato allo sterminio gli Amalekiti ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei vuoi come primizie di ciò che doveva farne dei sacrifici all'Eterno al tuo Dio a Gilgal e Samuele disse l'Eterno a egli grado gli olocausti e i sacrifici come che si ubbidisca la sua voce ecco l'ubbidienza val meglio che il sacrificio e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni poiché la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici giacché tu hai ricettata la parola dell'Eterno anch'egli ti rigetta come re allora Saul disse a Samuele io ho peccato poiché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole io ho temuto e il popolo che ha dato ascolto alla sua voce or dunque ti prego perdona il mio peccato ritorna con me ed io mi prostrerò davanti all'Eterno e Samuele disse a Saul io non ritornerò con te poiché hai ricettato la parola dell'Eterno e l'Eterno ha ricettato te perché tu non sia più re sopra di Israele e come Samuele si voltava per andarsene Saulo prese per il lembo del mantello che gli si strappò allora Samuele gli disse l'Eterno strappa oggi da addosso a te il regno di Israele e lo dà un altro che è migliore di te e colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà poiché egli non è un uomo perché abbia da pentirsi allora Saul disse ho peccato ma tu adesso onorami ti prego in presenza degli anziani del mio popolo in presenza di Israele ritorna con me e io mi prostrerò davanti all'Eterno al tuo Dio Samuele dunque ritornò seguendo Saul e Saul si prostrò davanti all'Eterno poi Samuele disse menami qua Agag re degli Amalekiti e Agag venne da lui incatenato e Agag diceva certo l'amarezza della morte è passata Samuele gli disse come la tua spada ha privato le donne e i figlioli così la madre tua sarà privata dei figlioli fra le donne e Samuele fe squartare Agag in presenza dell'Eterno a Gilgal poi Samuele se ne andò a Rama e Saul salì a casa sua a Ghibeal di Saul e Samuele finché visse non andò più a vedere Saul perché Samuele faceva cordoglio per Saul e l'Eterno si pentiva d'aver fatto Saul re di Israele primo l'Eterno disse a Samuele fino a quando farai tu cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele empi d'olio il tuo corno e va io ti manderò da Isai di Bethlehem perché mi son provveduto di un re fra i suoi figlioli e Samuele rispose come andrò io Saul lo verrà sapere mi ucciderà l'Eterno disse prenderai te con una giovenca e dirai sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno inviterai Isai al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare e mi ungerai colui che io ti dirò Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli aveva detto e si recò a Bethlehem e gli anziani della città gli si fecero incontro tutti turbati e gli dissero porti tu pace ed egli rispose porto pace vengo ad offrire un sacrificio all'Eterno purificatevi e venite me al sacrificio fece anche purificare Isai e i suoi figlioli e le invitò al sacrificio mentre entravano egli scorsi Liabe disse certo ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui ma l'Eterno disse a Samuele non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura perché io l'ho scartato giacché l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo l'uomo riguarda l'apparenza ma l'Eterno riguarda il cuore allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele ma Samuele rispose l'Eterno non si è scelto neppure questo Isai fece passare ma Samuele ma Samuele dunque lo mandò lo mandò a cercare e lo fece venire or egli era biondo aveva de begli occhi e un bel aspetto e l'Eterno disse a Samuele levati ungilo perché egli è adesso allora Samuele prese il corno dell'olio e lunse in mezzo ai suoi fratelli e da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide e Samuele si levò e se ne andò a Rama or lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul che era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno i servitori di Saul gli dissero ecco un cattivo spirito suscitato da Dio ti turba ordini ora il nostro Signore ai tuoi servi che ti stanno dinanzi di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa e quando il cattivo spirito suscitato da Dio ti investirà quelli si metterà a suonare e tu ne sarai sollevato Saul disse ai suoi servitori trovatemi un uomo che suoni bene e conducetemelo allora uno dei domestici prese a dire ecco io ho veduto un figliolo di Isai il Betlaminita che sa suonare bene è un uomo forte valoroso un guerriero parla bene è di bel aspetto e l'Eterno è con lui Saul dunque inviò dei messi a Isai per dirgli mandami Davide tuo figliolo che è col gregge ed Isai prese un asino carico di pane un otre di vino un capretto e li mandò tutto a Saul per mezzo di Davide suo figliolo Davide arrivò da Saul si presentò a lui ed egli pose grande affetto e lo fece suo scudiero e Saul mandò a dire ad Isai ti prego lascia Davide al mio servizio poiché egli ha trovato grazie agli occhi miei or quando il cattivo spirito suscitato da Dio investiva Saul Davide pigliava l'arpa e si metteva a suonare Saul si sentiva sollevato e stava meglio e il cattivo spirito se ne andava da lui primo Samuele capitolo dicesettesimo or i filistei misero insieme i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco che appartiene a Giuda e si accamparono fra Soco e a Zeca a Efes da Min Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro ai filistei i filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte e fra loro c'era la valle ora dal campo dei filistei uscì come un campione un guerriero per nome Goliath di Gath alto sei cubiti e un palmo aveva in testa un elmo di rame era vestito d'una corazza squame il cui peso era di cinquemila sicli di rame portava delle gambiere di rame e sospeso dietro le spalle un giavellotto di rame l'asta della sua lancia era come un subio di tessitore la punta della lancia pesava seicento sicli di ferro e colui che portava la sua targa lo precedeva e lì dunque si fermò e volto alle schiere di israele gridò perché uscite a schierarvi in battaglia non sono io il filisteo e voi i servi di saul scegliete fra voi uno e scenda egli contro a me se egli potrà lottare con me ed uccidermi noi saremo vostri servi ma se io sarò vincitore e l'ucciderò voi sarete nostri sudditi e ci servirete e il filisteo aggiunse io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di israele datemi un uomo e ci batteremo quando saul e tutto israele udirono queste parole del filisteo rimasero sbigottiti e presi da gran paura ora davide era figliuolo di quelle frateo di bethlen di giudea per nome isai che aveva otto figliuoli e che al tempo di saul era vecchio molto innanzi nell'età i tre figliuoli maggiore di isai erano andati alla guerra con saul e i tre figliuoli che erano andati alla guerra si chiamavano eliab il primo genito abinadab il secondo e sciamma il terzo davide era il più giovane e quando i tre maggiori ebbero seguito saul davide si partì da saul e tornò a bethlen a pascolare le pecore di suo padre e il filisteo si faceva avanti la mattina e la sera e si presentò così per quaranta giorni or isai disse a davide suo figliuolo prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi dieci pani e portali presto al campo ai tuoi fratelli porta anche queste dieci casciole al capitano del loro migliaio vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami da loro un qualche contrassegno saul ed essi con tutti gli uomini d'israele sono nella valle dei terebinti a combattere contro i filistei l'indomani davide si alzò di buon mattino lasciò le pecore a un guardiano prese il suo carico e partì come isai gli aveva ordinato e come giunse al parco dei carri l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava gridi di guerra israeliti e filistei si erano schierati esercito contro esercito davide lasciate in mano al guardiano dei bagagli e le cose che portava corse alla linea di battaglia e giunto vi chiese ai suoi fratelli come stavano or mentre egli parlava con loro ecco avanzarsi di fra le file dei filistei quel campione quel filisteo di Gath di nome Goliath e ripetere le solite parole e Davide le udì e tutti gli uomini d'israele alla vista di quell'uomo fuggirono dinanzi a lui presi da gran paura gli uomini d'israele dicevano avete visto quell'uomo che avanza egli s'avanza per coprirlo proprio israele se qualcuno lo uccide il re lo farà grandemente ricco gli darà la sua propria figliola ed estenderà in israele la casa del padre di lui da ogni aggravio e Davide rivolgendosi a quelli che gli erano vicini disse che si farà egli a quell'uomo che ucciderà questo filisteo e torralo proprio di dosso a israele e chi è dunque questo filisteo questo incirconciso che osa insultare le schiere dell'idio vivente e la gente gli rispose con le stesse parole dicendo si farà questo e questo a colui che lo ucciderà Eliab suo fratello maggiore avendo udito Davide parlare a quella gente s'accese d'ira contro di lui e disse perché sei sceso qua e a chi è lasciato quelle poche pecore nel deserto io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore tu sei sceso qua per vedere la battaglia Davide rispose e che io ho fatto ora non era che una semplice domanda e scostandosi da lui si rivolse a un altro facendo la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta or le parole che Davide aveva dette essendo state sentite furono riportate a Saul che lo fece venire e Davide disse a Saul nessuno si perde ad animo a motivo di costui il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo Saul disse a Davide tu non puoi andare a batterti con questo filisteo poiché tu non sei che un giovinetto ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza e Davide rispose a Saul il tuo servo pascolava il grege di suo padre quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora di mezzo al grege e io gli correvo dietro lo colpivo e gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivolgeva contro io lo pigliavo per le ganasce lo ferivo e l'ammazzavo sì il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso e questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli poiché ha coperto proprio le schiere dell'iddio vivente e Davide soggiunse l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo e Saul disse a Davide va e l'Eterno siateco Saul rivestì Davide della sua propria armatura dimise un capo un elmo di rame e lo armò di corazza poi Davide scinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato ma disse a Saul io non posso camminare con questa armatura non ci sono abituato e se la tolse di dosso e prese in mano il suo bastone si scelse nel torrente cinque pietre bellisce le pose nella sacchetta del pastore che gli serviva da carniera e con la fionda in mano mosse contro il filisteo il filisteo anche gli si fe innanzi avvicinandosi sempre di più a Davide ed era preceduto dal suo scudiero e quando il filisteo ebbe scorto Davide lo disprezzò perché non era che un giovinetto biondo e di bell'aspetto e il filisteo disse a Davide sono io un cane che tu vieni contro a me col bastone e il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei e il filisteo disse a Davide vieni qua che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi allora Davide rispose al filisteo tu vieni a me con la spada e con la lancia e col giavellotto ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei filistei e gli uccelli del cielo e alle fiere della terra e tutta la terra riconoscerà che vè un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed Egli vi darà nelle nostre mani e come il filisteo si mosse e si fei innanzi per accostarsi a Davide Davide anche gli corse prestamente verso la linea di battaglia incontrò al filisteo mise la mano nella sacchetta ne cava una pietra la lanciò con la fionda e colpì il filisteo nella fronte la pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde bocconi per terra così Davide con una fionda e con una pietra vinse il filisteo lo colpì e l'uccise senza avere la spada in mano poi Davide corse si gettò sul filisteo gli prese la spada e sguainatela lo mise a morte e gli tagliò la testa i filistei vedendo che il loro eroe era morto si diedero alla fuga e gli uomini di Israele e di Giuda sorsero alzando gridi di guerra inseguirono i filistei fino all'ingresso di Gath e alle porte di Ekron i filistei feriti a morte caddero sulla via di Sharim fino a Gath e da Ekron e i figliuoli di Israele dopo aver dato caccia ai filistei tornarono e predarono il loro campo e Davide presa la testa del filisteo la portò a Gerusalemme ma ripose l'armatura di lui nella sua tenda or quando Saul aveva veduto Davide che andava contro il filisteo aveva chiesto ad Abner capo dell'esercito Abner di chi è figliuolo questo giovinetto ed Abner aveva risposto come è vero che tu vivi ora io non lo so e il re aveva detto informati di chi sia figliuolo questo ragazzo or quando Davide ucciso il filisteo fu di ritorno Abner lo prese e lo menò alla presenza di Saul avendo egli in mano la testa del filisteo e Saul gli disse giovinetto di chi sei tuo figliuolo e Davide rispose sono figliuolo del tuo servo Isai di Bethlehem primo Samuele capitolo diciottesimo come Davide ebbe finito di parlare con Saul l'anima di Jonathan rimase così legata all'anima di lui che Jonathan l'amò come l'anima sua da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che se ne tornasse a casa di suo padre e Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria quindi Jonathan si tolse di dosso il mantello lo diede a Davide e così fece delle sue vesti fino alla sua spada e al suo arco e alla sua cintura e Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandava Saul mise a capo della gente di guerra ed egli era gradito a tutto il popolo anche ai servi di Saul or all'arrivo dell'esercito quando Davide uccise il filisteo e faceva ritorno le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul cantando e danzando al suon dei timpani e dei triangoli e alzando grida di gioia e le donne danzavano e si rispondevano a vicenda dicevano Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila Saul nebbe sdegno fortissimo quelle parole gli dispiacquero e disse ne danno diecimila a Davide e a meno ne danno che mille non gli manca più che il regno e Saul da quel giorno in poi guardò Davide di mal occhio il giorno dopo un cattivo spirito suscitato da Dio si impossessò di Saul che era come fuori di sé in mezzo alla casa mentre Davide suonava l'arpa come soleva fare tutti i giorni Saul aveva in mano la sua lancia e la scagliò dicendo inchioderò Davide al muro ma Davide schivò il colpo per due volte Saul aveva paura di Davide perché l'Eterno era con lui e si era ritirato da Saul perciò Saul lo allontanò da sé e lo fece capitano di mille uomini ed egli andava e veniva alla testa del popolo ora Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e l'Eterno era con lui e quando Saul vide che gli riusciva splenditamente cominciò ad aver timore di lui ma tutto Israele e Giuda amavano Davide perché andava e veniva alla loro testa Saul disse a Davide ecco merab la mia figliola maggiore io te la darò per moglie solo sii mi valente e combatti le battaglie dell'Eterno or Saul diceva fra sé non sia la mia mano che lo colpisca ma sia la mano dei filistei ma Davide rispose a Saul chi sono io che è la vita mia e che è la famiglia di mio padre in Israele che io abbia ad essere genero del re ora venne che quando merab figlia di Saul doveva essere data a Davide fu invece sposata ad Adriel di Meola ma mica il figliola di Saul amava Davide e lo riferirono a Saul e la cosa gli piacque e Saul disse glielo darò poiché sia per lui un'insidia ed egli cadda sotto la mano dei filistei Saul dunque disse a Davide oggi per la seconda volta tu puoi divenire mio genero poi Saul diede quest'ordine ai suoi servitori parlate in confidenza Davide diteli ecco tu sei in grazia del re e tutti i suoi servi ti amano diventa dunque genero del re i servi di Saul ridissero queste parole a Davide ma Davide replicò sembra a voi cosa lieve il diventare genero del re e io sono povero e di basso stato e i servi riferirono a Saul Davide ha risposto così e così e Saul disse dite così a Davide il re non domanda dote ma domanda cento propulsi di filistei per trar vendetta dei suoi nemici or Saul aveva in animo di far cadere Davide nelle mani dei filistei i servitori dunque riferirono quelle parole a Davide e Davide piacque di diventare in tal modo genero del re e prima del termine fissato Davide si levò partì con la sua gente e uccise duecento uomini dei filistei portò i loro prepuzzi e ne fece consegno il numero preciso al re per diventare il suo genero e Saul gli diede per moglie mica al suo figliuola e Saul vide e riconobbe che l'Eterno era con David e mica il figliuola di Saul l'amava e Saul continuò più che mai a temer Davide e gli fu sempre nemico ora i principi dei filistei uscivano a combattere ed ogni volta che uscivano Davide riusciva meglio di tutti i servi di Saul in guisa che il suo nome divenne molto famoso primo Samuele capitolo diciannovesimo Saul parlò a Jonathan suo figliuolo e a tutti i suoi servi di far morire Davide ma Jonathan figliuolo di Saul che voleva gran bene a Davide informò Davide della cosa e gli disse Saul mio padre cerca di farti morire ordunque ti prego stai in guardia domattina tienti in un luogo segreto e nasconditi io uscirò e mi terrò a lato a mio padre nel campo dove tu sarai parlerò di te a mio padre e vedrò come vanno le cose e te lo farò sapere Jonathan dunque parlò a Saul suo padre in favore di Davide e gli disse non pecchi il re contro al suo servo contro a Davide già che ei non ha peccato contro a te e anzi l'opera sua è stata di grande utilità egli ha messo la propria vita a repentaglio ha ucciso il filisteo e l'eterno ha operato una grande liberazione a pro di tutto Israele tu l'hai veduto e tu te ne sei allegrato perché dunque ora peccheresti tu contro il sangue innocente facendo morire Davide senza ragione Saul di ascolto alla voce di Jonathan e fece questo giuramento com'è vero che l'eterno vive egli non sarà fatto morire allora Jonathan chiamò Davide e gli riferì tutto questo poi Jonathan ricondusse Davide da Saul al servizio del quale gli rimase come prima ricominciò di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere contro i filistei inflisse loro una grave sconfitta e quelli fuggirono dinanzi a lui e uno spirito cattivo suscitato dall'eterno si impossessò di Saul egli sedeva in casa sua avendo in mano una lancia e Davide stava sonando l'arpa e Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia ma Davide schivò il colpo e la lancia dienne il muro Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte Saul inviò dei messi alla casa di Davide per tenere d'occhio e farlo morire la mattina di poi ma Michal moglie di Davide lo informò della cosa dicendo se in questa stessa notte non ti salvi la vita domani sei morto e Michal calò Davide per una finestra ed egli se ne andò e fuggì e si mise in salvo poi Michal prese l'idolo domestico e lo pose nel letto e gli mise un capo un cappuccio di pelo di capra e lo coperse d'un mantello e quando Saul inviò dei messi a pigliare Davide e la disse è malato allora Saul inviò di nuovo messi perché vedessero Davide e disse loro portatemelo nel letto perché io lo faccia morire e quando giunsero i messi ecco che nel letto c'era l'idolo domestico con in capo il cappuccio di pel di capra e Saul disse a Michal perché mi ha ingannato così e hai dato campo al mio nemico di fuggire e Michal rispose a Saul è lui che mi ha detto lascia mi andare altrimenti t'ammazzo Davide dunque fuggì e si pose in salvo e venne da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che Saul gli aveva fatto poi egli e Samuele andarono a stare a Naioth e questo fu riferito a Saul dicendo ecco Davide e a Naioth presso Rama e Saul inviò dei messi per pigliare Davide ma quando questi videro l'adunanza dei profeti che profetavano con Samuele che teneva la presidenza lo spirito di Dio investì i messi di Saul che si misero anch'essi a profetare ne informarono Saul che inviò altri messi i quali pure si misero a profetare Saul ne mandò ancora per la terza volta e anche questi si misero a profetare allora si recò egli stesso a Rama e giunto alla gran cisterna che a Secu chiese dove sono Samuele e Davide e gli fu risposto ecco sono a Naioth presso Rama egli andò dunque là a Naioth presso Rama e lo spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio profetando finché giunse a Naioth presso Rama e anche egli si spogliò delle sue vesti e anche egli profetò in presenza di Samuele e Giacco e nudo per terra tutto quel giorno e tutta quella notte dove il detto Saul e anche egli tra i profeti primo Samuele capitolo ventesimo Davide fuggì da Naioth presso Rama e andò a trovare Jonathan e gli disse che ho mai fatto qual è il mio delitto qual è il mio peccato verso tuo padre che gli vuole la mia vita e Jonathan gli rispose tolga cioè Dio tu non morrai ecco mio padre non fa cosa alcuna o grande o piccola senza farmene parte e perché mi cederebbe di questa non è possibile ma Davide replicò giurando tuo padre sa molto bene che io ho trovato grazia agli occhi tuoi perciò avrà detto Jonathan non sappia questo affinché non abbia dispiacerne ma com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua fra me e la morte non va che un passo e Jonathan disse a Davide che desideri tu che io ti faccia Davide rispose a Jonathan ecco domani è la luna nuova e io dovrei sedermi a mensa con re lasciami andare e mi nasconderò per la campagna fino alla sera del terzo giorno se tuo padre nota la mia assenza tu gli dirai Davide mi ha pregato istantamente di poter dare una corsa fino a Betla in sua città perché v'è un sacrificio annuo per tutta la sua famiglia se gli dice sta bene il tuo servo avrà pace ma se dirà sappi che il male che mi vuol fare è deciso mostra dunque la tua bontà verso il tuo servo giacché hai fatto entrare il tuo servo in un patto con te nel nome dell'Eterno ma se v'è in me qualche iniquità dammi la morte tu perché mi manderesti da tuo padre e Jonathan disse lungi da te questo pensiero se io venissi a sapere che il male è deciso da parte di mio padre e sta per venirti addosso non te lo farei io sapere Davide disse a Jonathan chi mi informerà nel caso che tuo padre ti dia una risposta dura e Jonathan disse a Davide vieni andiamo fuori alla campagna e andarono ambedue fuori alla campagna e Jonathan disse a Davide l'Eterno l'Idio di Israele mi sia testimonio quando domani o postomani a quest'ora io avrò scandigliato mio padre se gli è ben disposto verso Davide e io non mando a fartelo sapere l'Eterno tratti Jonathan con tutto il suo rigore nel caso poi che piaccia a mio padre di farti del male te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu te ne vada in pace e l'Eterno sia te ecco come è stato con mio padre e se sarò ancora in vita e non egli è vero tu agirei verso di me con la ventà dell'Eterno un Dio non si è messo a morte e non cesserai mai di essere buono verso la mia casa neppure quando l'Eterno avrà sterminato di sulla faccia della terra fino a quell'ultimo i nemici di Davide così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide dicendo l'Eterno faccia vendetta dei nemici di Davide e per amore che gli portava Jonathan fece di nuovo giurare Davide perché gli l'amava come l'anima propria poi Jonathan gli disse domani è la nuova luna e la tua assenza sarà notata perché il tuo posto sarà vuoto domani l'altro dunque tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno del fatto e rimarai presso la pietra di Esol io tirerò tre frecce da quel lato come se tirassi a segno poi subito manderò il mio ragazzo dicendo vai a cercare le frecce se dico al ragazzo guarda le frecce sono di qua da te prenditele tu allora vieni perché tutto va bene per te e non ha nulla da temere come l'Eterno vive ma se dico al giovinetto guarda le frecce sono di là da te allora vattene perché l'Eterno vuole la tua parte quanto a quello che abbiamo convenuto fra noi fra me e te ecco l'Eterno ne è testimonio in perpetuo Davide dunque si nascose nella campagna e quando venne il nove lunio il re si posse a sedere alla mensa per il pasto il re come al solito si posse a sedere sulla sua sedia che era vicina al muro Jonathan si alzò per porsi di faccia Abner si assisi accanto a Saul ma il posto di Davide rimase vuoto non di meno Saul non disse nulla quel giorno perché pensava gli è successo qualcosa e non deve essere puro per certo e non è puro ma l'indomani secondo giorno della luna nuovo il posto di Davide era ancora vuoto e Saul disse a Jonathan suo figliuolo perché il figliuolo di Zainon è venuto a mangiare né ieri né oggi Jonathan rispose a Saul Davide che mi ha chiesto istantemente di lasciarlo andare a Bethlehem e ha detto ti prego lasciami andare perché abbiamo in città un sacrificio di famiglia e il mio fratello mi ha raccomandato d'andarvi ordunque se ho trovato grazie agli occhi tuoi ti prego lasciami dare una corsa per vedere i miei fratelli per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re allora l'ira di Saul s'accese contro Jonathan ed egli disse figliuolo perverso e ribelle non lo so io forse che tieni le parti del figliuolo di Zai a tua vergogna e da vergogna del seno di tua madre poiché fino a tanto che il figliuolo di Zai avrà vita sulla terra non vi sarà stabilità né per te né per il tuo regno ordunque mandalo a cercare e fallo venire da me perché deve morire Jonathan rispose a Saul suo padre e gli disse e perché dovrebbe egli morire cosa ha fatto e Saul brandì la lancia contro di lui per colpirlo allora Jonathan riconobbe che suo padre aveva deciso di far morire Davide ed ecco era acceso d'ira si levò da mensa e non mangiò nulla il secondo giorno della luna nuova addolorato com'era per l'onta che suo padre aveva fatta Davide la mattina dopo Jonathan uscì fuori alla campagna al luogo fissato con Davide ed aveva seco un ragazzetto e disse al suo ragazzo corri a cercare le frecce che tiro e come il ragazzo correva tirò una freccia che passò di là da lui e quando il ragazzo fu giunto al luogo dove era la freccia che Jonathan aveva tirata Jonathan gli gridò dietro la freccia non è essa di là da te e Jonathan gridò ancora dietro il ragazzo via fa presto non ti trattenere e il ragazzo di Jonathan raccolse le frecce e tornò dal suo padrone ora il ragazzo non sapeva nulla Jonathan e Davide soli sapevano di che si trattasse Jonathan diede le sue armi al suo ragazzo e gli disse va portala alla città e come il ragazzo se ne fu andato Davide si levò di dietro al mucchio di pietre si gettò con la faccia a terra e si prostò tre volte poi i due si baciarono l'un l'altro e piansero assieme Davide soprattutto die impianto di rotto e Jonathan disse a Davide va in pace ora che abbiamo fatto ambedue questo giuramento nel nome dell'Eterno l'Eterno sia testimonio fra me e te fra la mia progenie e fra la tua progenie in perpetuo Davide si levò e se ne andò e Jonathan tornò in città primo Samuele capitolo ventunesimo Davide andò a Nob dal sacerdote Ahimelech e Ahimelech gli venne incontro tutto tremante e gli disse perché sei solo e non hai alcun teco Davide rispose al sacerdote Ahimelech il re mi ha dato un'incombenza e mi ha detto nessuno sappia nulla dell'affare per cui ti mando e dell'ordine che ti ho dato e quanto alla mia gente le ho detto di trovarsi in un dato luogo e ora che hai tu sotto mano dammi cinque panni o quel che si potrà trovare il sacerdote rispose a Davide dicendo non ho sotto mano del pane comune ma c'è del pane consacrato ma la tua gente si è almeno astenuta da contatto con donne Davide rispose al sacerdote da che son partito tre giorni fa siamo rimasti senza donne e quanto ai vasi della mia gente erano puri e se anche la nostra incombenza è profana essa sarà oggi santificata da quel che si porrà nei vasi il sacerdote gli die dunque del pane consacrato perché non vera qui via altro pane tranne quello della presentazione che era stato tolto dinanzi all'eterno per mettervi invece del pane caldo nel momento in cui si toglieva l'altro ora quel giorno un certo uomo di tra i servi di Saul si trovava qui vi trattenuto in presenza dell'eterno e si chiamava Doeg era Edomita e capo dei pastori di Saul e Davide disse ad Ahimelech non hai tu qui disponibile una lancia o una spada perché io non ho preso meco né la mia spada né le mie armi tanto premeva l'incombenza del re il sacerdote rispose c'è la spada di Goliath il filisteo che tu uccidesti nella valle dei Terebinti e l'hai involta in un panno dietro all'Ephod se la vuoi prendere prendila perché qui non venne altra fuori di questa e Davide disse nessuna è pari a quella dammela allora Davide si levò e quel giorno fuggì per timore di Saul e andò da Achis re di Gath e i selvi del re dissero ad Achis non è questi Davide il re del paese non è quelli colui del quale cantava nelle loro danze Saul ha uccisi i suoi mille e Davide i suoi diecimila e Davide si tenne in cuore queste parole ed ebbe gran timore di Achis re di Gath mutò il suo modo di fare in loro presenza faceva il pazzo in mezzo a loro tracciava dei segni sui battenti delle porte si lasciava scorrere la saliva sulla barba e Achis disse ai suoi servi guardate è un pazzo perché me l'avete menato mi mancava forse dei pazzi che ma avevate condotto questo a fare il pazzo in mia presenza costui non entrerà in casa mia primo samuele capitolo ventiduesimo or Davide si partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adulam e quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero scessero quivi per unirsi a lui e tutti quelli che erano in angustia e che avevano dei debiti o che erano scontenti si radunarono presso di lui ed egli divenne il loro capo ed ebbe con sé circa quattrocento uomini di là Davide andò a Mispah di Moab e disse al re di Moab dai permettimi che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a tanto che io sappia quel che Dio farà di me e gli dunque li condusse davanti al re di Moab ed essi rimasero con lui tutto il tempo che Davide fu nella sua fortezza e il profeta Agà disse a Davide non star più in questa fortezza parti e recati nel paese di Giuda Davide allora partì e venne nella foresta di Eret Saul seppe che Davide e gli uomini che erano con lui erano stati scoperti Saul si trovava allora a Ghibea seduto sotto la temerisce che era sull'altura e aveva in mano la lancia e tutti i suoi servi gli stavano attorno e Saul disse ai servi che gli stavano attorno ascoltate ora beniaminiti il figliuolo di Sai vi darà egli forse a tutti dei campi e delle vigne farà egli di tutti voi dei capi di migliaia e dei capi di centinaia che avete tutti congiurato contro di me e non v'è alcuno che m'abbia informato dell'alleanza che il mio figliuolo ha fatto col figliuolo di Sai e non v'è alcuno di voi che mi compianga che mi informi che il mio figliuolo ha sollevato contro di me il mio servo perché mi tenda insidie come fa oggi e Doeg Lidumeo il quale era proposto ai servizi di Saul rispose e disse io vidi il figliuolo di Sai venire a Nobda a Himelech figliuolo di Aitub il quale consultò l'Eterno per lui e gli diede dei viveri e gli diede la spada di Goliath il Filisteo allora il re mandò a chiamare il sacerdote a Himelech figliuolo di Aitub e tutta la famiglia del padre di lui e vale a dire i sacerdoti che erano a Nob e tutti vennero al re e Saul disse ora ascolta o figliuolo di Aitub ed egli rispose eccomi signor mio e Saul gli disse perché tu e il figliuolo di Sai avete congiurato contro di me perché gli ha dato del pane e una spada e ha consultato il Dio per lui affinché insorga contro di me e mi tenda insidie come fa oggi allora Himelech rispose al re dicendo e chi vede dunque fra tutti i tuoi servi fedele come Davide genero del re pronto al tuo comando e onorato nella tua casa ho io forse cominciato oggi a consultare lì Dio per lui lungi da me il pensiero di tradirti non imputi il re nulla di simile al suo servo o a tutta la famiglia di mio padre perché il tuo servo non sa cosa alcuna piccolo grande di tutto questo il re disse tu morrai senz'altro a Himelech tu con tutta la tua famiglia del padre tuo e il re disse alle guardie che gli stavano attorno volgetevi e uccidete i sacerdoti dell'eterno perché anch'essi sono d'accordo con Davide sapevano che gli era fuggito e non me l'hanno detto ma i servi del re non volevano mettere le mani addosso ai sacerdoti dell'eterno e il re disse a Doag volgeti tu e gettati sui sacerdoti e Doag l'idumeo si volse e si avventò addosso ai sacerdoti e uccise in quel giorno ottantacinque persone che portavano l'efo di lino e Sao mise pure a fil di spada Nob la città dei sacerdoti uomini donne fanciulli bambini di latte buoi asini e pecori tutto mise a fil di spada e non di meno uno dei figlioli di Ahimelech figliolo di Aitub di nome Abiatar scampò e si rifugiò presso Davide Abiatar riferì a Davide che Sao aveva ucciso i sacerdoti dell'eterno e Davide disse ad Abiatar io io sapevo bene quel giorno che Doeglidumeo era là che egli avrebbe senza dubbio avvertito Saul io sono la causa della morte di tutte le persone della famiglia di tuo padre resta con me e non temere chi cerca la mia vita cerca la tua con me sarai al sicuro primo Samuele capitolo ventitresimo or vennero a dire a Davide ecco i filistei hanno attaccato Cheila e saccheggiano le aie e Davide consultò l'eterno dicendo andrò io a sconfiggere questi filistei l'eterno rispose a Davide va sconfiggi i filistei e salva Cheila ma la gente di Davide gli disse tu vedi che qui in Giuda abbiamo paura e che sarà se andiamo a Cheila contro le schiere dei filistei Davide consultò di nuovo l'eterno e l'eterno gli rispose e gli disse levati scendi a Cheila perché io darò i filistei nelle tue mani Davide dunque andò con la sua gente a Cheila combatté contro i filistei portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta così Davide liberò gli abitanti di Cheila quando Abiatar figliolo di Ahimelec si rifugiò presso Davide a Cheila portò seco l'Ephod Saul fu informato che Davide era giunto a Cheila e Saul disse il Dio lo dà nelle mie mani poiché è venuto a rinchiudersi in una città che a porte sbarre Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra per scendere a Cheila e cingere da sedio Davide e la sua gente ma Davide avuta conoscenza che Saul gli macchinava del male disse al sacerdote Abiatar porta qua l'Ephod poi disse o eterno Dio di Israele il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Cheila per distruggere la città per causa mia quei di Cheila mi daranno essi nelle sue mani Saul scenderà egli come il tuo servo ha sentito dire o eterno Dio di Israele dè fallo sapere al tuo servo l'Eterno rispose scenderà Davide chiese ancora quei di Cheila daranno essi me e la mia gente nelle mani di Saul l'Eterno rispose vi daranno nelle sue mani allora Davide e la sua gente circa seicento uomini si levarono uscirono da Cheila e andarono qua e là a caso e Saul informato che Davide era fuggito da Cheila rinunziò alla sua spedizione Davide rimase nel deserto in luoghi forti e se ne stette nella contrada montuosa del deserto di Zif Saul lo cercava continuamente ma Dio non glielo dette nelle mani e Davide sapendo che Saul si era mosso per togliergli la vita restò nel deserto di Zif nella foresta allora Jonathan figliolo di Saul si levò e si recò da Davide nella foresta egli fortificò la sua fiducia in Dio e gli disse non temere poiché Saul mio padre non riuscirà a metterti le mani addosso tu regnerai sopra Israele e io sarò il secondo dopo di te e ben lo sa anche Saul mio padre e i due e i due fecero alleanza in presenza dell'Eterno poi Davide rimase nella foresta e Jonathan se ne andò a casa sua or gli zifei salirono da Saul a Ghibea e gli dissero Davide non sta egli nascosto fra noi nei luoghi forti della foresta sul colle di Achila che a mezzogiorno del deserto scendi dunque o re già che tutto il desiderio dell'anima tua è di scendere e pensere noi a darlo nelle mani del re Saul disse siete benedetti dell'Eterno voi che avete pietà di me andatevi prego informatevi anche più sicuramente per sapere scoprire il luogo dove suol fermarsi e chi l'abbia qui vi veduto poiché mi si dice che egli è molto astuto e vedete di conoscere tutti i nascondigli dove egli si ritirerà poi tornate da me con notizie sicure e io andrò con voi se egli è nel paese io lo cercherò fra tutte le migliaia di Giuda quelli dunque si levarono e se ne andarono a Zif innanzi a Saul ma Davide e i suoi che erano nel deserto di Maun nella pianura a mezzogiorno del deserto Saul con la sua gente partì in cerca di lui ma Davide che ne fu informato scese dalla roccia e rimase nel deserto di Maun e quando Saul lo seppe andò in traccia di Davide nel deserto di Maun Saul camminava da un lato del monte e Davide con la sua gente dall'altro e come Davide si affrettava la marcia per sfuggire a Saul e Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e i suoi per impadronirsene arrivò Saul un messo e gli disse affrettatevi e venite perché i filistei hanno invaso il paese così Saul cessò di inseguire Davide e andò a fronteggiare i filistei perciò quel luogo fu chiamato Sela Amelothkoth primo Samuele capitolo ventiquattresimo poi Davide si partì di là e si stabilì nei luoghi forti di En-Gedi e quando Saul fu tornato dall'inseguire i filistei gli vennero a dire ecco Davide è nel deserto di En-Gedi allora Saul prese tremila uomini scelti fra tutto Israele e andò in traccia di Davide e della sua gente fin sulle rocce delle capre salvatiche e giunse ai parchi di pecore che erano presso la via qui vi era una spelonca nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni ora Davide e la sua gente se ne stavano in fondo della spelonca e la gente di Davide gli disse ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice vedi io ti do nelle tue mani il tuo nemico fa di lui quello che ti piacerà allora Davide si alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul ma dopo il cuore li battè per aver egli tagliato il lembo del mantello di Saul e Davide disse alla sua gente mi guardi l'Eterno dal commettere contro al mio Signore che è l'unto dell'Eterno l'azione di mettergli le mani addosso poiché egli è l'unto dell'Eterno e con le sue parole Davide raffermò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul Saul si levò uscì dalla spelonca e continuò il suo cammino poi anche Davide si levò uscì dalla spelonca e gridò dietro a Saul dicendo o re mio Signore Saul si guardò indietro e Davide si inchinò con la faccia a terra e si prostrò Davide disse a Saul perché dai tu retta alle parole della gente che dice Davide cerca di farti del male ecco in quest'ora stessa tu vedi coi tuoi propri occhi che l'Eterno ti aveva dato oggi nelle mie mani in quella spelonca qualcuno mi disse di ucciderti ma io t'ho risparmiato e ho detto non metterò le mani addosso al mio Signore poiché egli è l'unto dell'Eterno ora guarda padre mio guarda qua nella mia mano il lembo del tuo mantello se io ti ho tagliato il lembo del mantello e non ti ho ucciso puoi da questo vedere chiaro che non venne la mia condotta né malvagità né ribellione e che io non ho peccato contro di te mentre tu mi tendi insidie per tormi la vita l'Eterno sia giudice fra me e te e l'Eterno mi vendichi di te ma io non ti metterò le mani addosso dice il proverbio antico il male viene dai malvagi io quindi non ti metterò le mani addosso contro chi è uscito il re d'Israele chi vai tu perseguitando un cam morto una pulce sia dunque arbitro l'Eterno e giudichi fra me e te e vega e difenda la mia causa e mi renda giustizia liberandomi dalle tue mani quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul Saul disse e questa la tua voce figliuolo mio Davide e Saul alzò la voce e pianse e disse a Davide tu sei più giusto di me poiché tu mi hai reso bene per male mentre io ti ho reso male per bene tu hai mostrato oggi la tua bontà con la quale ti conduci verso di me poiché l'Eterno m'aveva dato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso se uno incontra il suo nemico lo lascia egli andarsene in pace ti renda dunque l'Eterno il contraccambio del bene che mi hai fatto quest'oggi ora ecco io so che per certo tu regnerai e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani ordunque giurami nel nome dell'Eterno che non distruggerà la mia progenie dopo di me e che non estirperà il mio nome dalla casa di mio padre e Davide lo giurò a Saul poi Saul se ne andò a casa sua e Davide e la sua gente risalirono a loro forte rifugio primo Samuele capitolo venticinquesimo Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio e lo seppellirono nella sua proprietà a Rama allora Davide si levò e scesse verso il deserto di Paran or vera un uomo a Mahon che aveva i suoi beni a Carmel ed era molto ricco aveva tremila pecore e mille capre e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore quest'uomo aveva nome Nabal e il nome della sua moglie era Abigail donna di buon senso e di bell'aspetto ma l'uomo era duro e malvagio nell'agir suo discendeva da Caleb Davide avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore gli mandò dieci giovani al quale disse saliti a Carmel andate nella Nabal salutatelo a nome mio e dite così salute pace a te pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene ho saputo che tu hai i tosatori ora i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro alcun oltraggio e nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel domandene ai tuoi servi e te lo diranno trovino dunque questi giovani grazie agli occhi tuoi già che siamo venuti in giorno di gioia e datti prego ai tuoi servi e al tuo figliuolo Davide ciò che avrai fra la mano quando i giovani di Davide arrivarono e ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide poi si tacquero ma Nabal rispose ai servi di Davide dicendo e chi è Davide? e chi è il figliuolo di Sai? eh sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni e prenderei io il mio pane e la mia acqua e la carne che ho macellata per i miei tosatori per darli a gente che non so donde venga e i giovani ripresero la loro strada e tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole allora Davide disse ai suoi uomini ognuno di voi si scinga la sua spada ognuno si scinse la sua spada e Davide pure si scinse la sua e salirono dietro a Davide circa quattrocento uomini duecento rimasero presso il bagaglio or Abigail moglie di Nabal fu informata della cosa da uno dei suoi servi che le dissero ecco Davide ha inviato nel deserto dei messi per salutare il nostro padrone ed egli li ha trattati male eppure quella gente è stata molto buona verso di noi noi non ne abbiamo ricevuto alcun oltragio non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo andati attorno con loro quando eravamo per la campagna di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro facendo i greggi or dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare poiché un guaio è certo che avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare allora Abigail prese in fretta duecento panni due otre di vino cinque montoni allestiti cinque misure di grano arrostito cento picche d'uva secca e duecento masse di fichi caricò ogni cosa su degli asini poi disse ai suoi servi andate innanzi a me ecco io vi seguirò ma non disse nulla Annabal suo marito e come la cavallo al suo asino scendeva il monte per il sentiero coperto ecco Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei e sì che si incontrarono or Davide aveva detto in vano dunque ho io protetto tutto ciò che colui aveva nel deserto in guisa che nulla è mancato di tutto ciò che possiede ed egli mi ha reso male per bene così tratti lì Dio i nemici di Davide col massimo rigore fra cui e lo spuntardo del giorno di tutto quello che gli appartiene io non lascerò in vita un sol uomo e quando Abigail ebbe veduto Davide scese in fretta dall'asino gettandosi con la faccia a terra si prostrò dinanzi a lui poi gettandosi ai suoi piedi disse oh mio signore la colpa è mia dè lascia che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva te ne prego signor mio non far caso di quell'uomo da nulla che è Nabal poiché egli è quel che dice il suo nome si chiama Nabal e in lui non c'è che stoltezza ma io la tua serva non vidi i giovani mandati dal mio signore ordunque signor mio com'è vero che vive l'eterno e che l'anima tua vive l'eterno ti ha impedito di spargere il sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani ed ora i tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio signore siano come Nabal e adesso ecco questo regalo che la tua serva reca al mio signore sia dato ai giovani che seguono il mio signore dè perdona il fallo della tua serva poiché per certo l'eterno renderà stabile la casa del mio signore giacché il mio signore combatte le battaglie dell'eterno e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te e se mai sorgesse alcuno a perseguitarti ed a tentare la tua vita l'anima del mio signore sarà costudita nello scrigno della vita presso l'eterno che è il tuo dio ma l'anima dei tuoi nemici l'eterno la lancerà via come la rete di una frombola e quando l'eterno avrà fatto il mio signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele il mio signore non avrà questo dolore e questo rimorso d'avere sparso del sangue senza motivo ed essersi fatto giustizia da sé e quando l'eterno avrà fatto del bene al mio signore ricordati della tua serva e Davide disse ad Abigeo sia benedetto l'eterno l'idio di Israele che t'ha oggi mandata incontro a me e sia benedetto il tuo senno e benedetta si tu che mi hai oggi impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie proprie mani poiché è certo com'è vero che vive l'eterno l'idio di Israele che mi ha impedito di farti del male se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro fra qui e lo spuntar del giorno a Nabal non sarebbe rimasto un sol uomo Davide quindi riceve dalle mani di lei quello che essa avea portato e le disse risali in pace a casa tua vedi io ti ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo di te ed Abigal venne da Nabal ed ecco che egli faceva banchetto in casa sua banchetto da re Nabal aveva il cuore allegro perché ebbero fuori di mondo Ondella non gli fece sapere alcuna cosa piccolo grande fino allo spuntar del giorno ma la mattina quando gli fu passata l'ebrezza la moglie raccontò a Nabal queste cose allora gli si freddò il cuore ed è rimase come un sasso e circa dieci giorni dopo l'eterno colpì Nabal ed egli morì quando Davide seppe che Nabal era morto disse sia benedetto l'eterno che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fatto mi da Nabal e ha preservato il suo servo dal far del male la malvagità di Nabal l'eterno l'ha fatta ricadere sul capo di lui e poi Davide mandò ad Abigael a proporle di diventare sua moglie e i servi di Davide vennero da Abigael a Carmea e le parlarono così Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie allora ella si levò si prostrò con la faccia a terra e disse ecco la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore poi Abigael si levò tosto montò sopra un asino e seguita da cinque fanciulle tenne dietro ai messi di Davide e divenne sua moglie Davide sposò anche a Inoham di Israel ed ambe due furono sue mogli ora Saul aveva dato mica a sua figliola la moglie di Davide appalti figliolo di Laish che era di Galim primo Samuele capitolo ventiseiesimo ora gli zifei vennero da Saul a Ghibea e gli dissero Davide non sta egli nascosto sulla collina di Achila di Rimpetto al deserto allora Saul si levò e scese nel deserto di Zif avendo secco tremila uomini scelti di Israele per cercar Davide nel deserto di Zif e Saul si accampò sulla collina di Achila che è di Rimpetto al deserto presso la strada e Davide che stava nel deserto avendo inteso che Saul veniva nel deserto per cercarlo mandò delle spie e seppe con certezza che Saul era giunto allora Davide si levò venne al luogo dove Saul stava accampato e notò il luogo dove erano coricati Saul ed Abner il figliolo di Ner capo dell'esercito di lui Saul stava coricato nel parco dei carri e la sua gente era accampata intorno a lui e Davide prese a dire ad Ahimelech lo Hitteo ed Abishai figliolo di Zerruia fratello di Joab chi scenderà con me verso Saul nel campo e Abishai rispose scendero io con te Davide ed Abishai dunque pervernero di notte a quella gente ed ecco Saul giaceva addormentato nel parco dei carri con la sua lancia affitta in terra dalla parte del capo ed Abner e la sua gente li stavano coricati all'intorno allora Abishai disse a Davide oggi l'idioto ha messo il tuo nemico nelle mani ora lasciati prego che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi in terra con un sol colpo e non ci sarà bisogno di un secondo ma Davide disse ad Abishai non lo ammazzare chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'eterno senza rendersi colpevole poi Davide aggiunse com'è vero che l'eterno vive e l'eterno solo sarà quelli che lo colpirà sia che venga il suo giorno e muoia sia che scenda in campo di battaglia e vi perisca mi guardi l'eterno dal mettere le mani addosso all'unto dell'eterno prendi ora soltanto ti prego la lancia che è presso al suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene e Davide dunque prese la lancia e la brocca dell'acqua di Saul che era presso al suo capo e se ne andarono nessuno vide la cosa né si accorse di nulla e nessuno si svegliò tutti dormivano perché l'eterno aveva fatto cadere su di loro un sonno profondo poi Davide passò dalla parte opposta si fermò in lontananza in vetta al monte a gran distanza dal campo di Saul e gridò alla gente di Saul e ad Abner figliuolo di Nera non rispondi tu Abner Abner rispose e disse chi sei tu che gridi al re e Davide disse ad Abner non sei tu un valoroso e chi è pari a te in Israele perché dunque non hai tu fatto buona guardia al re tuo signore poiché uno del popolo è venuto per ammazzare il tuo signore questo che tu hai fatto non sta bene com'è vero che l'eterno vive meritate la morte voi che non avete fatto buona guardia al vostro signore all'unto dell'eterno ed ora guarda dove sia la lancia del re e dove sia la brocca dell'acqua che stava presso il suo capo Saul riconobbe la voce di Davide e disse è questa la tua voce o figliuolo mio Davide e Davide rispose è la mia voce o re mio signore poi aggiunse perché il mio signore perseguita il suo servo che ho io fatto che delitto ho io commesso ordunque si degni il re mio signore d'ascoltare le parole del suo servo se è l'eterno quelli che ti incita contro di me accetti egli un'oblazione ma se sono gli uomini siano essi maledetti d'innanzi all'eterno poiché m'hanno oggi cacciato per separarmi dall'eredità dell'eterno dicendomi va a servire a degli dei stranieri ordunque non cada il mio sangue in terra lungi della presenza dell'eterno poiché il re di Israele è uscito per andare in traccia ad una puce come si va dietro a una pernice su per i monti allora Saul disse ho peccato torna figliuolo mio Davide poiché io non ti farò più alcun male giacché oggi la mia vita è stata preziosa agli occhi tuoi ecco io ho operato da stolto e ho commesso un gran fallo Davide rispose ecco la lancia del re passi uno qua uno dei tuoi giovani a prenderla e l'eterno retroibirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà giacché l'eterno ti aveva dato oggi nelle mie mani e io non ho voluto mettere le mani addosso all'unto dell'eterno e come preziosa è stata oggi la tua vita agli occhi miei così preziosa sarà la vita mia agli occhi dell'eterno ed egli mi libererà da ogni tribolazione e Saul disse a Davide si tu benedetto figliuolo mio Davide tu agirai da forte e riuscirai per certo vittorioso Davide continuò il suo cammino e Saul tornò a casa sua primo Samuele capitolo ventisettesimo or Davide disse in cuor suo un giorno o l'altro io perirò per le mani di Saul non ve nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei in guisa che Saul perduta ogni speranza finisca di cercarmi per tutto il territorio di Israele così scamperò dalle sue mani Davide dunque si levò e con i seicento uomini che aveva secco si ricorda ad Achis figliuolo di Moac re di Gath e Davide dimorò ad Achis a Gath egli e la sua gente ciascuno con la sua famiglia Davide aveva secco le sue due mogli a Inoam la Islerita e Abigael la Carmelita che era stata prima la moglie di Nabal e Saul informato che Davide era rifugiato a Gath non si dia più a cercarlo Davide disse ad Achis se ho trovato grazia agli occhi tuoi si è mi dato in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi poiché il tuo servo dimorerà egli con te nella città reale e Achis in quel giorno gli diede Tziglak perciò Tziglak ha appartenuto al re di Giuda fino al di Dogi ora il tempo che Davide passò nel paese dei Filistei fu un anno e quattro mesi Davide e la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei Geshuriti e Ghizeriti e degli Amarechiti poiché queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese dal lato di Sur fino al paese d'Egitto e Davide devastava il paese non vi lasciava in vita né uomo né donna e pigliava pecore buoi e asini cammelli e indumenti e poi se ne tornava e andava ad Achis Achis domandava dove avete fatto le scorrerie quest'oggi e Davide rispondeva verso il mezzogiorno di Giuda verso il mezzogiorno dei Gerameiliti e verso il mezzogiorno dei Chenei e Davide non lasciava in vita né uomo né donna per menarli a Gath perché diceva potrebbero parlare contro di noi e dire così ha fatto Davide questo fu il suo modo di agire tutto il tempo che dimorò nel paese dei Filistei e Achis aveva fiducia in Davide diceva egli si rende odioso a Israele e il suo popolo e così sarà mio servo per sempre primo Samuele capitolo ventotesimo ora venne in quei giorni che i Filistei radunarono i loro eserciti per muovere guerra ad Israele e Achis disse a Davide sappi per cosa certa che verrai me quella guerra tu e la tua gente Davide rispose ad Achis e tu vedrai quello che il tuo servo farà e Achis a Davide e io ti affiderò per sempre la guardia della mia persona or Samuele era morto tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e l'avevano sepolto in Rama nella sua città e Saul aveva cacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini i Filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Sumen Saul parimente radunò tutto Israele e si accamparono a Gilboa quando Saul vide l'accampamento dei Filistei ebbe paura e il cuore gli tremò forte e Saul consultò l'Eterno ma l'Eterno non gli rispose né per via di sogni né mediante l'urin né per mezzo dei profeti allora Saul disse ai suoi servi cercatemi una donna che sappia evocarli spiriti ed io andrò da lei a consultarla e i servi gli dissero ecco a Endor vè una donna che evoca gli spiriti e Saul si contraffesce e si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini giunsero di notte presso la donna e Saul le disse dimmi la venire ti prego evocando uno spirito e fammi salire colui che ti dirò la donna gli rispose ecco tu sai quel che Saul ha fatto come egli ha sterminato nel paese gli evocatori di spiriti e gli indovini perché dunque tendi un'insidia alla mia vita per farmi morire e Saul le giurò per l'Eterno dicendo come è vero che l'Eterno vive e nessuna punizione ti toccherà per questo allora la donna gli disse che devo farti salire ed egli fammi salire Samuele e quando la donna vide Samuele levò un gran grido e disse a Saul perché tu mi hai ingannata tu sei Saul e il re le disse non temere ma che vedi e la donna a Saul vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra ed egli a lei che forma ha ed ella rispose è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello allora Saul comprese che era Samuele e si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò innanzi e Samuele disse a Saul perché mi hai tu disturbato facendomi salire Saul rispose io sono in grande angustia perché i filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né per via di sogni perciò tu ho chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare Samuele disse perché consulti me mentre l'Eterno si è ritirato da te ed è divenuto avversario l'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo l'Eterno ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo a Davide perché non hai ubbidito la voce dell'Eterno e non hai lasciato corso all'ardore della sua ira contro Amelec perciò l'Eterno ti tratta così quest'oggi e l'Eterno darà anche Israele con te nelle mani dei filistei e domani tu e i tuoi figlioli sarete meco l'Eterno darà pure il campo di Israele nelle mani dei filistei allora Saul cadde subitamente lungo disteso per terra perché spaventato dalle parole di Samuele ed era inoltre senza forza già che non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta quella notte la donna si avvicinò a Saul e vedutolo tutto atterrito gli disse ecco la tua serva ha ubbidito la tua voce io ho messo a repentaglio la mia vita per ubbidire le parole che mai dette or dunque anche tu porgi ascolto alla voce della tua serva e lascia che io ti metta davanti un boccon di pane e mangia per prender forza da rimetterti in viaggio ma egli rifiutò e disse non mangerò i suoi servi però unitamente alla donna gli fecero violenza ed egli si arrese alle loro istanze s'alzò da terra e si pose a sedere sul letto or la donna aveva in casa un vitello ingrassato che la si affrettò ad ammazzare poi prese della farina la impastò e ne fece dei pani senza lievito mise quei cibi davanti a Saulo e a suoi servi quelli mangiarono poi si levarono e ripartirono quella stessa notte primo samuele capitolo ventinovesimo i filistei radunarono tutte le loro truppe ad affec e gli israeliti si accamparono presso la sorgente di israel i principi dei filistei marciavano la testa delle loro centinaia e delle loro migliaia e davide e la sua gente marciavano alla retroguardia con achis allora i capi dei filistei dissero che fanno qui questi ebrei e achis rispose ai capi dei filistei ma questi è davide servo di sauro e di israele che è stato presso di me da giorni anzi da anni e contro il quale non ho avuto nulla da ridire dal giorno della sua defezione ad oggi ma i capi dei filistei si addirarono contro di lui e dissero rimanda a costui e se ne ritorni al luogo che tu gli hai segnato e non scenda con noi alla battaglia affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia poiché come potrebbe costui riacquistare grazia del signor suo se non per mezzo delle teste di questi uomini nostri non è egli quel davide di cui si cantava in mezzo alle danze sauro ha ucciso i suoi mille davide i suoi diecimila allora a chi schiamò davide gli disse com'è vero che l'eterno vive tu sei un uomo retto e vedo con piacere il tuo andare e venire con me nel campo poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivassi da me fino ad oggi ma tu non piaci ai principi ordunque ritornatene e vattene in pace per non disgustare i principi dei filistei davide disse ad achis ma che ho io mai fatto e che hai tu trovato nel tuo servo in tutto il tempo che sono stato oppresso di te fino al di d'oggi poiché io non debba andare a combattere contro i nemici del re mio signore achis rispose a davide dicendo lo so tu sei caro agli occhi miei come un angelo da dio ma i principi dei filistei hanno detto egli non deve salire con noi alla battaglia or dunque or dunque alzati domattino di buon ora con i servi del tuo signore che son venuti teco alzatevi di buon mattino appena farà giorno e andatevene davide dunque con la sua gente si levò di buon ora per partire al mattino e tornare nel paese dei filistei e i filistei salirono a israel primo samuele capitolo trentesimo tre giorni dopo quando davide e la sua gente furono giunti a zig lag ecco che gli amalecchiti avevano fatto una scorreria verso il mezzogiorno verso zig lag e avevano presa zig lag e l'avevano incendiata avevano fatto prigionieri le donne tutti quelli che si trovavano piccoli e grandi non avevano ucciso alcuno ma avevano menato via tutti e se ne erano tornati donde erano venuti quando davide e la sua gente giunsero alla città ecco che essa era distrutta dal fuoco e le loro moglie e i loro figlioli e i loro figlioli erano stati menati via prigionieri allora davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce piansero finché non ebbero più forza di piangere le due moglie di davide ahino ham la israelita e abigail la carmelita che era stata moglie di nabal erano anch'esse prigioniere e davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo essendo l'animo di tutti amareggiato a motivo dei loro figlioli e delle loro figliole ma davide si fortificò nell'eterno nel suo dio davide disse al sacerdote abiatar figliolo di ahimelech ti prego portami qua l'ephod e abiatar portò l'ephod a davide e davide consultò l'eterno dicendo debbo io dar dietro a questa banda di predoni la raggiungerò io e l'eterno rispose dalle dietro poiché certamente le raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa davide dunque andò con i sescento uomini che aveva seco giunsero al torrente besor dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono ma davide continuò l'inseguimento con quattrocento uomini ducento erano rimasti indietro troppo stanchi per poter attraversare il torrente besor trovarono per la campagna un egiziano e lo venarono a davide gli diedero del pane che gli mangiò e dell'acqua da bere e gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e due picche d'uva quando egli abbia mangiato si riebbe poiché non aveva mangiato pane e ne bevuto acqua per tre giorni e tre notti e davide gli chiese a chi appartieni e di dove sei quelle rispose sono un giovane egiziano servo di una male chita il mio padrone mi ha abbandonato perché tre giorni fa caddi infermo abbiamo fatto una scorreria nel mezzogiorno dei chiretei sul territorio di Giuda nel mezzogiorno di Caleb e abbiamo incendiato Ziklag davide gli disse vuoi tu condurmi giù dov'è quella banda quelli rispose giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone e io ti menerò giù dov'è quella banda e quando degli ebbe menato là ecco che gli amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna mangiando e bevendo e facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei dal paese di Giuda Davide die loro addosso alla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani e non uno ne scampò tranne quattrocento giovani che montarono su dei cammelli e fuggirono Davide recuperò tutto quello che gli amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue due mogli e non vi mancò alcuno né dei piccoli né dei grandi né dei figlioli né delle figliole né alcuno del bottino né cosa alcuna che gli amalechiti avessero presa Davide ricondusse via tutto Davide riprese anche tutti i greggi e tutti gli armenti e quelli che menavano questo bestiame camminavano alla sua testa dicendo questo è il bottino di Davide poi Davide tornò verso quei duecento uomini che per la grande stanchezza non avevano potuto tenere dietro e che gli aveva fatto rimanere al torrente Bezor quelli si fecero avanti incontro a Davide e alla gente che era con lui e Davide accostatosi a loro li salutò allora tutti i tristi e perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire già che costoro non sono venuti con noi non darem loro nulla del bottino che abbiamo recuperato tranne a ciascuno di loro la sua moglie e i suoi figlioli se li menino via e se ne vadano ma Davide disse non fate così fratelli miei riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date egli ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi e chi vi darebbe retta in questo affare qual è la parte di chi scende alla battaglia tale deve essere la parte di colui che rimane presso il bagaglio faranno tra loro le parti uguali e da quel giorno in poi si fece così Davide ne fece in Israele una legge ed una norma che è andurato fino al di d'oggi quando Davide fu tornato a Ziglag mandò parte di quel bottino agli anziani di Giuda sui amici dicendo eccovi un dono che viene dal bottino preso ai nemici dell'Eterno ne mandò a quelli di Beto a quelli di Bomat nel mezzogiorno a quelli di Jadit e a quelli di Areoher e a quelli di Simot e a quelli di Estemoa e a quelli di Recale e a quelli della città degli Irameliti e a quelli della città dei Chenei e a quelli di Orba e a quelli di Kor e a quelli di Atac e a quelli di Ebron e a quelli di tutti i luoghi che Davide e la sua gente avevano percorso primo Samuele capitolo trentunesimo o i filistei vennero a battaglia con Israele e gli israeliti fuggirono dinanzi ai filistei e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa i filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figlioli e uccisero Jonathan a Binadab Malchishua figliolo di Saul il forte della battaglia si volse contro Saul gli arcieri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande angoscia a motivo degli arcieri Saul disse al suo scudiero sfodera la spada e trafiggimi affinché questi incirconcisi non vengano a trefiggermi e a farmi oltraggio ma lo scudiero non volle farlo perché era colto da gran paura allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra lo scudiero di Saul vedendolo morto si gettò anche egli sulla propria spada e morì con lui così in quel giorno morirono insieme a Saul i suoi tre figlioli il suo scudiero e tutta la sua gente e quando gli israeliti che stavano di là dalla valle di là dal giordano videro che la gente di israele si era data la fuga che Saul e i suoi figlioli erano morti abbandonarono le città e fuggirono e i filistei entrarono essi ad abitarle l'indomani i filistei vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi tre figlioli cadute sul monte Gilboa tagliarono la testa a Saul lo spogliarono delle sue armi e mandarono all'intorno per il paese dei filistei ad annunziare la buona notizia nei tempi dei loro idoli e al popolo e collocarono le armi di lui nel tempo di Estarte e appesero il suo cadavere alle mura di Bet-Shoam ma quando gli abitanti di Iabes di Galahad udirono quello che i filistei avevano fatto a Saul tutti gli uomini valorosi si levarono camminarono tutta la notte tolsero dalle mure di Bet-Sham il cadavere di Saul e i cadavere dei suoi figlioli tornarono a Iabes e qui li bruciarono poi presero le loro ossa le seppellirono sotto la temerice di Iabes e digiunarono per sette giorni 1 2 1 2 2 Grazie a tutti.